cose che non si possono dire in live fuori onda fuori onda ciao a tutti salve a tutti buonasera buonasera poi arriva Marcello arrivano un po' tutti perché mi sento doppio? che succede? ok aspetta ho la pagina internet aperta allora 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 è successo prima volata e Mark Kamen dice ora posso dirlo posso dirlo perché ce l'abbiamo in squadra quindi ce l'abbiamo ce l'abbiamo ho creduto in lui allora sono un po' un paraculo perché comunque l'ho accanato l'ho accanato per tutto il Tour de France 2020 21 però quest'anno l'ho comprato ce l'ho in squadra e quindi ora deve vincere almeno 3-4 tanti ma poi con quel costo lì ti viene spontaneo prenderlo comunque voglio dire 160 vittorie costa 15-50 milioni rispetto ad altri velocisti che costano il doppio si sapeva insomma che meno di grossi colpi di scena lui c'è anche perché quest'anno ho solo il giro come obiettivo della grande corsa tappe quindi eh sì Kenderman è ancora in più no ragazzi allora Malori oggi a chi si fa lo scherzo telefonico potrebbe essere una nuova rubrica lo scherzo ma ragazzi se ci date il numero di telefono di un qualcuno connesso al mondo del ciclismo magari lo chiamiamo no non abbiamo avuto notizie risposte nulla secondo me arriva direttamente la lettera dell'avvocato però non so quando arriverà non è che fate come Malori perché lo troviamo in live senza Morkov come sarebbe andata ma soprattutto a livello di selvinismo come siamo messi allora analizziamo la volata potevamo preparare un contenuto filmato immagini così ma chiaramente domenica il tempo è tiranno e quindi facciamo un'analisi tanto comunque tutti sapete com'è andata la volata avete più o meno rivisto gli highlights di Autosport nostri partner e quindi va bene così insomma poi gli highlights tanto le vedete allora cosa abbiamo visto in questa volata poi lo vedrete anche domani sera abbiamo fatto l'analisi della volata per Bike Channel quindi domani sera saremo in onda su Bike alle 20.05 come sempre sì 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 ok abbiamo fatto l'analisi però la ripetiamo qua diciamo abbiamo visto due treni nella volata uno con esperienza e uno con inesperienza poi c'era un po' tanti trenini in quella però la Alpiscin e la Quickstep erano quelle secondo me messe meglio nel rettilineo finale nel lungo rettilineo finale però l'Alpiscin ha pagato cosa ha pagato che c'è Van Der Poel che ha un motore enorme però è un motore che non è esperto nel gestire le volate infatti si è guardato più volte alle spalle per vedere se vedeva il Dani e il Maresco e era lì davanti ha tirato però ha tirato per nessuno perché alla sua ruota non c'erano i suoi compagni di squadra quindi ha peccato un po' di inesperienza al treno dell'Alpiscin mentre la Quickstep tutta bella compatta e in fila indiana Morcov ha fatto il pilota di Cavendish come ha saputo fare bene nelle 3784 occasioni che mi è stato chiesto di fare e e niente Cavendish ha fatto una volata lunga perché è partito veramente ai 300 e passa a metri cioè ha fatto una volata veramente lunga comunque non è partito agli ultimi 100 metri ecco non è che ha fatto la volata classica di Iwan che ti salta sulla ruota e ti frega agli ultimi 100 metri quindi non lo so cioè mi sembra che allora sì poi analizziamo un po' la volata anche degli altri battuti Mareschko ha sbagliato a prendere le ruote di Van der Po ma ha recuperato bene dopo la gamba e la gamba ce l'ha sì però sai Amadeus non sono troppo convinto che abbia sbagliato Mareschko a prendere la ruota è che per fare un treno devi provare tante volte cioè la quick step questa roba qui la fa ormai da non so 5 anni 10 anni non so da quando è arrivato Morkov fondamentalmente comunque Viviani quando era in quick step The Koenig vabbè vinceva io mi ricordo una gara quella che finiva sul Demol a Londra cioè fece un lavoro eccezionale Morkov allucinante Morkov è l'arma in più poi Cavendish ha fatto una grande la differenza oggi perché è partito lungo e nessuno l'ha superato sì sì una volata lunga rispetto al solito la parte sua la differenza dei treni quick step e Alpicin è che da una parte ci sono 160 vittorie in grandi giri dall'altra ce ne sono 45 quasi tutte in Cine è vero anche questo è così segnale di risveglio da Demar che è arrivato secondo se l'è giocata questa volta da un po' che non lo vedevamo protagonista in una volata di gruppo e sicuramente la delusione di giornata insieme a Nizzolo ma comunque anche Kale Biwan devo dire che oggi se non ricordo male è arrivato ottavo e non è stato protagonista per niente proprio quindi non si capisce bene se è una questione fisica o c'è dell'altro anche la squadra che ha lavorato durante la tappa poi è letteralmente svanita nel momento clou Allora apriamo un capitolo a parte la lotto è già un po' di anni che è in cadenza diciamo però o le salva Iwan quest'anno o è dura c'è non ha nemmeno una grande squadra per questa mente Buonasera Paolo ciao ciao ragazzi buonasera 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 Paolo buonasera come stai? Bene dai appena rientrato da una gara con i ragazzi con i direttanti ricordiamo che Paolo è direttore sportivo del team Palazzago formazione di giovani molto interessanti quindi si dedica ai giovani dopo avere fatto una vita da da gregario comunque da uomo squadra in diverse formazioni importanti e con grandi grandi capitani Allora dacci una mano ciao Lore ciao Lore Buonasera a tutti dacci una mano un attimo a interpretare un po' questi questi tre giorni tre giorni di giro abbiamo visto la prima tappa che era una tappa abbastanza non difficilissima però all'arrivo presentava insomma una salitellina niente male e tutti volevano una maglia importante alla prima e poteva essere o una maglia storica Ghirmai perché comunque un Eritreo che vince la prima tappa e prende la maglia rosa sarebbe stato eccezionale oppure Van Der Poel che era il fenomeno di questo giro o uno o l'altro insomma primo e secondo sono arrivati quindi comunque andava era un successo e poi la seconda tappa stratosferico Yates che nessuno si aspettava terza tappa e ritorno alla vittoria di Cavendish quasi 37enne dopo un grande tour ritorna al giro e era nove anni se non sbaglio che non vinceva al giro quindi insomma Paolo se ci puoi fare un sunto di queste tre tappe e poi tanto te lo domandiamo dopo visto che si va nel giorno di riposo c'è la tappa dell'Etna secondo te sarà un minimo decisiva oppure no e tra virgolette fattore meteo beh sì io diciamo che ho dato non ho seguito il giro come quando ero corridore perché i tempi sono diversi però ho dato un po' un'occhiata specialmente nelle tappe finale la prima tappa è stata spettacolare un arrivo veramente duro e duro impegnativo dove sono stati grandi protagonisti Van der Poel che ha fatto una ha dimostrato la sua forza ecco quello che è quello che è Van der Poel ma va bene così scusa Van der Poel mi confondo se Van der Poel se c'era Van der Poel era anche meglio dai ma va bene Van der Poel Van der Poel e ieri una grande una grande crono di Yates veramente una grande crono ma è andato forte anche Vincenzo ieri non dimentichiamoci ho fatto anche una buona crono Vincenzo e niente oggi non l'ho visto perché ero l'ho detto ero in giro con la gara con il ragazzo ha vinto Mark ma Mark sappiamo tutti il talento che è un ragazzo che si è riuscito a ritirarsi fuori da un periodo non bello ha ritrovato l'armonia giusta nel nel suo team e oggi ha dimostrato la sua forza ecco e riguardo invece alla tappa di Domall'altro dell'Etna cosa cosa sai riguardo ah beh quella è una tappa che posso dirvi tanto perché alla fine è una tappa che parte dalla mia città parte da Avola la città dove io sono cresciuto vi posso dire che non è una tappa facile perché già sin dalle prime battute per i primi 50 km è tutta una strada che continua a salire è una strada anche molto insidiosa con tante curve tanti saliscendi e poi la seconda parte è un po' più facile perché si va nella pianura nella piana di Catania e la salita dell'Etna non è la salita del pressante più duro però è una salita molto molto impegnativa che bisogna che bisogna dosare bene le forze è una salita dove chi ne ha deve sapersi gestire perché oltre a essere non durissima come pendenze però c'è molto ma molto vento è una zona dove c'è molto vento perciò se si è da soli per arrivare alla riva deve avere una gran gamba ma secondo te sulla salita ci potrà già essere un qualche big che si stacca oppure non è una salita che alla fine farà differenza tra diciamo quei dieci ecco e altra domanda in associazione a questa siccome ho visto un commento riguardo al Vincenzo martedì a mio avviso lascerà il segno ricordo il cicchismo italiano vince e prende la rosa nella sua terra cosa può fare Nibali non tanto nella tappa di martedì ma in questo giro di tight e come lo vedi visto che c'è colza anche insieme Vincenzo è un gran talento Vincenzo sicuramente se si è presentato al giro conoscendolo si è presentato preparato e concentrato per fare un gran giro e sono convinto che farà un grandissimo giro la tappa dell'Etna giustamente lui corre in casa una tappa che a lui gli si addice molto però anche gli avversari sono molto molto più preparati io vedo bene vedo bene gli AIDS per la tappa di martedì e anche lui sarà protagonista ecco non sarà una tappa decisiva che che deciderà le sorti del giro però diciamo che qualcuno può pagare qualche secondino lo può pagare ecco poi ricordiamoci che quest'anno il giro è veramente duro ci sono grandissime montagne specialmente sull'ultima settimana è ben distribuito come come salite ecco c'è sempre ogni giorno può essere diciamo decisivo e può essere anche per tanti chi becca la giornata storta può perdere minuti ma a proposito di Nibali cosa può fare secondo te verosimilmente in questo giro d'Italia perché se lo stanno richiedendo un po' tutti ce lo siamo chiesti anche noi ti sente basso Nelle live passate ci siamo chiesti cosa può fare verosimilmente Nibali in questo giro d'Italia perché alla cronometra è andato forte però non tutti pensano che possa fare classifica fino in fondo secondo te che lo conosci bene? io penso che Vincenzo sia partito intanto con le motivazioni e col pensiero in destra di vincere una tappa poi che sia l'Etna o che sia qualche altra tappa io penso che nella sua testa c'è di vincere una tappa e secondo me può anche riuscirci benissimo poi ricordiamoci che nella sua squadra c'è anche Lopez che è un giovane che sicuramente sarà lui a fare la classifica nel team Astana e lui sarà di supporto però conoscendo Vincenzo non è uno che sicuramente si tira indietro se c'è da fare la classifica io penso che lui vivrà giorno per giorno alle sue sensazioni col pensiero di andare a puntare una tappa ecco può essere che Nibali da come lo conosciamo può essere che imposta così il gioco dell'Italia visto che ha esperienza il rapporto con Martinelli è idilliaco chiaramente hanno vinto tanto insieme è probabile che magari parta senza mettergli troppa pressione addosso perché è giusto che con le tacche ha con i traguardi che ha raggiunto è giusto che faccia la sua corsa senza stress e pressioni però potrebbe essere che lui dice io provo a rimanere in classifica la crono di ieri probabilmente è una dimostrazione perché comunque è una crono fatta forte ma lo sapeva che probabilmente non avrebbe potuto vincere però l'ha fatta forte ugualmente non si è risparmiato di solito uno che punta alle tappe una tappa come quella di ieri arriva a un minuto 50 secondi non arriva lì al ridosso dei primi quindi vuol dire che l'ha fatta tutta e il mio dubbio è che lui provi a rimanere in classifica fino all'Etna perché chiaramente insomma se Nibali davvero prende la maglia rosa sull'Etna è tanta tanta roba e vede un attimino come va il giro poi se avrà la gamba bene se non ce l'ha a quel punto esce dalla classifica e punterà una tappa può essere questa l'impostazione che aveva Nibali da quando è iniziato il giro fino alla fine? Ma io dico ti dico sicuramente ieri ha dimostrato di avere una buona condizione perché sai le crono specialmente quella di ieri che era una crono breve una crono di forza con la salita nel finale se non hai gambe arrivi lì sotto la salita e i minuti e i secondi li perdi come niente ha dimostrato ieri di avere un'ottima condizione secondo me l'ha fatta tutta perché si sentiva di farla tutta ed è sicuramente proiettato con la testa già la tappa dell'Etna però ora non so i piani dell'Astana però fossi lui io ma per adesso non penserei alla classifica vivrei giorno per giorno avendo un compagno come Lopez può essere che l'abbia fatta tutta come hai detto giustamente perché è in forma perché comunque è vero che uno dice la faccia tutta però poi deve anche andare rispetto al passato Nibali mi sembra anche molto cresciuto in questo tipo di prove perché anche quando magari lottava per la classifica a volte ha fatto fatica al cronometro e specialmente in questo cronometro qui in cui magari serve essere più esplosivi rispetto a quelle che sono le sue doti preponderanti quindi vuol dire che comunque la gamba c'è ci possiamo sperare in qualcosa di più e forse magari ha dato tutto anche per come è un po' messo questo giro d'Italia ovvero queste tre tappe poi subito il giorno in riposo e poi l'Etna cioè poteva anche permetterselo tra virgolette senza avere troppi scorie nelle gambe sì sì alla fine se guardi queste giornate in Bulgaria alla fine era soltanto ieri la tappa dove bisognava impegnarsi al massimo e il primo giorno che arrivi abbastanza fresco adesso rientrano in Italia domani riposano la tappa dell'Etna può essere anche dannosa per alcuni perché il giorno di riposo non fa bene a tutti ecco bisogna sapersi anche gestire nel giorno di riposo è una tappa come quella di martedì vi posso assicurare che la prima parte se viene fatta forte farà male ecco farà male e sicuramente gente come Vincenzo che che ha ormai una certa età magari può soffrire all'inizio e andare meglio alla fine ecco no questo questo è sicuro però io ad esempio non so se poi anche la nostra community i ragazzi che ci seguono sono in tante anche stasera vedo che stanno commentando diteci la vostra chiaramente se se l'aspettavano così in Nibali perché in queste cronometro io non ce l'avrei mai fatto cioè mi sarei aspettato ad esempio un Carapazzo molto più pimpante anche se non ha fatto male poi oggettivamente Carapazzo anche se poi Marcello Piazzani ha dato 4 e mezzo non sono d'accordo nella pacella di ieri neanch'io vabbè non ha entusiasmato dobbiamo dire la verità non ha entusiasmato Carapazzo però non ha fatto nemmeno male ma mi sarei aspettato più un Carapazzo magari competitivo magari sorpresa rispetto a Nibali che invece non ha tanto nell'esplosività la sua dote migliore ricordiamoci comunque questo giro qua sono sempre tre settimane anche se sei un po' indietro all'inizio e ti sa gestire senza prendere tanti secondi alla fine c'è chi si si proietta a fare bene l'ultima settimana però già partire col piede giusto ti dà morale che ti fa andare avanti giorno per giorno capito? io ti devo sì no io spero che faccia no figurati spero che comunque faccia di più Nibali rispetto a essere supporto a Lopez perché insomma ne abbiamo anche bisogno un po' noi italiani io non penso che non dico che di supporto io dico che lui vivrà giorno per giorno ecco non avrà l'assillo come gli altri anni del risultato della classifica però sicuramente ci penserà l'obiettivo te l'ho detto secondo me l'obiettivo suo è la tappa la tappa vincere una delle tappe più belle al giro d'Italia e poi la classifica che viene di conseguenza io una domanda su Michel Landa che tu conosci bene che è atteso da questo giro d'Italia che sembra dato le sue caratteristiche ogni anno lo aspettiamo al Varco poi vuoi la sfortuna vuoi altre crisi durante certe tappe determinanti manca sempre quel qualcosa per arrivare poi al traguardo finale a vincere come lo vedi Landa pensi che quest'anno sia l'anno buono ma sai conoscendo Michel a lui non lo devi caricare troppo di responsabilità perciò avere accanto a sé un compagno come Peo Bilbao una squadra forte come gli hanno allestita secondo me gli scarica un po' l'attenzione diciamo nervosa e di concentrazione delle tre settimane per me con Peo possono fare veramente loro due un gran giro poi sarà la strada secondo me tra i due e decidere chi sarà il leader anche se ricordiamo oggi hanno perso Tratnik già che purtroppo è stato costretto a ritiro dopo l'accaduto della prima tappa e questa è una perdita molto grave spiazze 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 tanto un vince neanche quest'anno è una cosa pensi spiazze un vince neanche quest'anno nel 2018 ora così facciamo un piccolo apriamo una parentesi nel 2018 fecero con l'altro versante però se non sbaglio è quello un po' più duro ti ricordi Paolo? nel 2018 hanno fatto mi sembra nel 2018 sì hanno fatto il tratto da dove ha vinto Caruso quest'anno della lingua grossa sì perché mi ricordo che vinse Chavez diciamo lo fece vincere Yates però io mi ricordo che lì ci fu selezione perché arrivarono un gruppettino poi dietro Yates l'Etna invece fatto da rifugio Sapienza secondo me non farà quella selezione che tutti si aspettano ecco però insomma dipende dipende da come lo intemperano i corridori ricordiamo l'ultimo anno che l'abbiamo fatto da lì vinse Contador e fece un disastro però però sempre i corridori a a a disegnare la tappa ecco ti chiedeva lo svizzero ora ecco allora domanda per Polatirarongo questa si fa un po' un extra quali sono le prospettive per il ciclismo italiano dal punto di vista di un DS di una squadra giovanile come vedi il ciclismo italiano partendo dalle basi tra altre cose guarda quando era ieri mattina ho visto Mauro il fratello di Michele Bartoli in bicicletta mi sono messo un po' a parlarci e si parlava del ciclismo giovanile che loro gestiscono una squadra di ciclocross a livello appunto giovanile e mi parlava insomma ha detto un paio di idee così però anche lui non è che vede la situazione del ciclismo giovanile in Italia così rosea che come la vedi? beh la vedo cioè alla fine io ti posso dire la mia esperienza in questi due anni da quando sono arrivato qua a gestire dei ragazzi ho ricevuto una marea di chiamate da tanti ragazzi juniores che passano dilettanti di primi anni e nessuno che li vuole tutti cercano prendono soltanto i migliori e poi il resto che magari di altri ragazzi che hanno bisogno magari di una crescita e ricordiamoci che tanti di questi ragazzi vanno ancora a scuola e vanno assecondati e alla fine io ho visto che tanti quest'anno ne ho presi sei io di primi anni e avrei potuto vendone altre dieci però ho dovuto dire di no perché giustamente non potevo e alla fine bisogna dare la chance a questi ragazzi che passano dai juniors ai dilettanti anche a loro di proseguire l'attività specialmente a chi abita al sud Italia che non ha la possibilità di correre perché al sud come sappiamo di gare dilettanti ce ne è ben poche anzi quasi quasi niente ti faccio allora ti collego a questa domanda a un'altra riflessione su sul fatto che vediamo Baroncini vincere il campionato del mondo vediamo tanti giovani italiani come Zana ad esempio fare podio nelle corse a Tappland del 23 poi però si passa tra i professionisti e Baroncini ancora non si è espresso Zana idem però c'è Girmai ad esempio ora parlando del Giro d'Italia che è arrivato secondo o terzo non mi ricordo dietro Baroncini al campionato del mondo che è già a far fenomeno quindi ora noi l'abbiamo chiesto a Garzelli l'abbiamo chiesto un po' a tutti quelli che vengono ospiti con noi qua al salotto e tutti a meglio Garzelli l'ultima volta ha espresso un suo parere che è un po' condiviso da tanti che c'è questa forzatura nell'allenare tanto i ragazzi giovani in Italia e poi quando arrivano allo step del professionismo hanno già dato tutto e non c'è più margini di miglioramento può essere questa una teoria cioè che c'è troppa pressione nei giovani italiani quindi danno tutto nelle categorie diciamo inferiore diciamo tra virgolette l'Under 23 poi arrivano noi pro e quello è il loro livello non migliorano più ma secondo me oltre anche gli Under 23 anche già dai juniors vengono considerati come dei mini professionisti allenati come mini professionisti cioè non è più un gioco come era una volta è già è una cosa proiettata al futuro per farli passare creano attorno a loro dei piccoli campioncini che poi quando arrivano nei professionisti e lì veramente devono dare il loro valore beccano corrono con gente matura gente esperta giustamente moralmente si buttano a terra e non riescono a rendere perché erano abituati a andare forte nelle categorie giovanili e nei professionisti le cose cambiano allora a livello più psicologico magari c'è un blocco che ci vogliono due o tre anni per ritornare quelli che si è sì ma speriamo che insomma i nostri giovani prima o poi riescono a uscire fuori insomma no dall'anonimato però si vince poco ecco soprattutto con i ragazzi giovani penso sempre che chi ha vinto nelle categorie giovanili tornerà sempre a vincere cioè il corridore è quello che ha le doti ci vuole un po' più di pazienza ma tornerà a esprimersi il suo vero valore adesso purtroppo c'è questa moda che tutti guardano Pogac guardano tutti questi ragazzi giovani che arrivano e che sono dei talenti perché sono talenti perché purtroppo non tutti hanno il talento di Pogac o di chi è bene pur che avevi detto precedentemente bravo bisogna avere pazienza e non mettere pressione a questi ragazzi si può imputare all'assenso di una squadra world tour perché lo dicono in tanti questa cosa qua oppure no nel senso non c'è una world tour italiana quindi l'importanza di questa cosa si fa sentire oppure è solo una questione di individualità perché tra le ragazze ad esempio stiamo andando forte adesso e tante italiane vorranno sicuramente una squadra world tour a noi in Italia manca e spero che prima che nasca quanto prima però non puntiamo il dito soltanto sulla squadra pro tour ma bisogna avere pazienza nel ciclismo di oggi perché poi la carriera di un ciclista bisogna bisogna anche calcolare io adesso tutti questi ragazzi che vanno forti adesso ma tra tre o quattro anni ci saranno ancora questo non lo sappiamo quando dureranno una domanda per Paolo se ci si può se ci può raccontare come è stata l'esperienza dello staff dell'UAE e preparatore di Aru io in UAE sono stato benissimo ho imparato tanto ho avuto dei colleghi sportivi che mi hanno insegnato tantissimo mi hanno veramente aiutato nel mio cammino di direttore sportivo a imparare tante cose e l'esperienza con Fabio è stata positiva purtroppo a U2 ha avuto tantissimi problemi e poi giustamente quando perdi le motivazioni e non riesci più a tornare ad altri livelli non è facile a venirne fuori Qual è stato Paolo il motivo per cui secondo te Aru non è riuscito ok ha avuto il problema dell'artera iliaca che poi fu operato però era già un annetto e mezzo forse 2 che andava poco poi è rientrato si è visto qualcosina e poi comunque non è mai più riuscito a ritornare ai livelli dei primi 2-3 anni da professionista cosa è stato secondo te cosa è successo nella carriera di Aru così che l'hai conosciuto da vicino l'hai detto tu la pena non è una cosa che si scherza ecco alla fine ti scombussola tutto il fisico che alla fine è come se tu hai un tubo della benzina che non passa fai fatica fai fatica ti impegni ma non arriva ossigeno alle gambe e noi non rendi più come una volta ecco poi anche tu pensa abituato a essere a primeggiare a stare con i migliori e a poi tornare a tenere a non tenere neanche le ruote del gruppo a livello psicologico non è facile ecco non è non è non è non è facile tornare ad altri livelli ragazzi ecco io in in chiusura perché so che poi Paolo oggi oggi ha lavorato duro con i ragazzi c'era c'era una corsa quindi volevo chiedere qualcosa sulla sua carriera perché lui ha vinto tre tappe al giro e ha lavorato come abbiamo detto tantissimo per per le squadre in cui ha militato volevo chiederti qualcosa su come lavorare per Contador e l'altra cosa tu hai fatto una vuelta nel 2009 l'anno che ha vinto Valverda hai fatto classifica e sei arrivato tra i primi dieci ottavo se non ricordo male quindi gli chiede anche Eugenio qual è la vittoria più bella ha vinto tre tappe questo ragazzo Eugenio era presente in due a Rocca di Cambio a San Giorgio del Sagno e ti chiede qual è quella che ti ha emozionato di più e poi come lavorare per Contador come anche come corridore e se hai il numero di telefono se ce lo passi sì perché sta provando a contattarlo ma non c'è verso io vi posso dire che abbiamo lavorato per Contador ma ho lavorato per tantissimi grandi campioni Danibali Aru Cunego anche in Fassa quando ero in Fassa a Bortolo per Bartoli Casa Grande e tanti altri con Alberto diciamo che era diverso da tutti gli altri perché lui era molto ma molto meticoloso sugli obiettivi che ci si prefissava infatti ogni gara per lui non esisteva il piazzamento non si andava si andava per vincere ed era molto esigente con i suoi compagni con i suoi con i suoi gregari ecco però per noi gregari era un onore correre per lui perché sapevi che se faceva un certo tipo di lavoro difficilmente sbagliava ecco perciò era partivi motivato e partivi con la mentalità vincente e la tua vittoria più bella delle tre al giro le vittorie sono tutte belle sono tutte belle la prima con Alberto che è stata stata bellissima Macugnaga l'ho cercata anche lo avevo cercato già il giorno prima il giorno dopo qua che si arrivava qui a San Pelletino vicino a casa mia poi il giorno dopo si partiva da Bergamo qua dove vivo io e si arrivava a Macugnaga anche lì l'ho cercata avevo parlato con lui che aveva attaccato e poi dai è andata come è andata la seconda ho battuto un grande amico che è Michele Scarponi e abbiamo lottato fino all'ultimo metro ed è stata è stata bellissima anche quella e la terza invece è stata una vittoria cercata diciamo dall'inizio con una fuga da lontano e poi li ho staccati nel finale quindi pari merito non ce n'è una più bella no le vittorie sono tutte belle non è che le ho vittorie tanti però quelle poche che ho vinto le ho fatte vincere tante quelle sì ah quello sicuramente sicuramente vabbè ma anche il lavoro del Gregario comunque ce voglio dire non so perché assolutamente non va anzi pensate se non ci fosse Morco probabilmente Cavendish o il velocista di turno che gli sta a ruota avrebbe vinto forse la metà quindi il Gregario nel ciclismo ha un ruolo fondamentale poi ogni tanto qualche Gregario ha la libertà e quindi poi si vedono dei risultati belli cioè una vittoria secondo me poi Paolo scusami ti faccio parlare una vittoria di un Gregario in un giorno di libertà vale doppio dal mio punto di vista perché te in carriera magari come tanti altri hai avuto poche occasioni per gareggiare per conto proprio e quando te eri per conto proprio hai vinto vuol dire che te hai centrato il tuo obiettivo di giornata vale doppio vale sì sì quello sì però tipo che sì il lavoro del Gregario è molto esigente perché devi 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 essere bravo a fare il tuo lavoro però io dico sempre che attorno al Gregario attorno al capitano ci deve essere sempre un grande gruppo a iniziare dal personale da meccanici massaggiatori dottori tutto se c'è un grande gruppo in una squadra si crea una buona armonia e alla fine i risultati arrivano perfetto grazie Paolo grazie mille ci hai dato un po' di spunti di cui parlare sicuramente adesso Lore se vuoi aggiungere qualcosa no mi ha fatto molto piacere perché quando ero un po' più giovane ammiravo le sue gesta per aiutare la squadra lui è un uomo squadra da prendere assolutamente come esempio soprattutto per i tanti giovani che si avvicinano adesso a questo sport che magari vogliono già arrivare subito invece devono faticare molto perché il ciclismo è uno sport di fatica e Paolo nell'esempio Paolo se ti posso fare l'ultima domanda chi è un Gregario che oggi sposta gli equilibri o negli ultimi anni diciamo chi è quel Gregario che dici averlo in squadra a parte Morco per le volate però il Gregario il miglior Gregario che sposta gli equilibri sì allora io penso che i migliori Gregari ce li abbiano in Bahrain c'è Caruso e Peio Bilbao che secondo me adesso sono due diciamo chiamiamoli Gregari ma sono anche due possono fare due leader entrambi ok era una curiosità giusto dal tuo punto di vista poi la squadra che si è attrezzata bene per la UAE che ha creato attorno a Pogaccia ottimi corridori ecco perfetto L'Ore vuoi aggiungere qualcosa vuoi chiedere l'ultima cosa L'Ore lui L'Ore siamo in due no no io li volevo chiedere io dice beh chiaramente la sua esperienza nel ciclismo reale la conosciamo molto bene ma invece nel nostro fantasy ti sei mai cimentato e se sei incuriosito dopo essere venuto in diretta da noi no no guarda diciamo non mi sono mai no dovresti provare dovresti dirlo ai tuoi ragazzi anzi tra l'altro esatto devo chiedere guarda io alla fine quando ho smesso faccio fatica anche a guardare le gare in tv perché abbia il tempo che è quello che non ho tantissimo tempo però in pratica è molto semplice è un giochino molto easy da giocare ovvero te ti fai la tua squadra e la schieri durante l'anno in tutte le gare world tour quindi compri corridori che gareggiano reali solo che è un gioco e te schieri la tua squadra nei 9 corridori tipo al giro al tour alla vuelta e alle classiche monumenti sono tutte le gare world tour e c'è tantissimi ragazzi soprattutto anche ragazzi che corrono juniores under 23 che giocano all'applicazione ho trovato uno anche sul monte anzi l'ultima domanda l'hai mai fatto il monte serra chi non l'ha mai fatto il monte serra tantissimi grazie è un'istituzione non mi ricordo i miei tempi perché andavo a fare delle cronoscalate ma i tempi non mi ricordo però l'ho fatto qui ci sono leggende Visconti dice che abbia il record di 16 minuti poi però Nibali ha detto che andava più forte e poi abbiamo letto un'intervista che Ghirmai preparava le sue gare under 23 sul monte serra è un monte leggendario io non capisco ancora come non ci sia una gara world tour che passa sul monte serra io dico la roncola se volete la roncola non male tutti i giorni ognuno ha la sua ognuno ha la propria va bene Paolo grazie buona serata grazie a voi ragazzi è stato un piacere ciao buona serata ciao 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 Paolo ciao 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 abbiamo trovato un altro che è transitato dalle strade esatto dopo il maiale di Selvatella è arrivato ragazzi oggi c'era Cipollini oggi c'era c'era Cipollini sul serra ho visto una storia in instagram ho fatto il trittico tutte e tre io l'ho fatti due sabato quando mi rioverano sono fuori forma e poi c'era oggi era bella per andare ambisce ho sbagliato io perché sabato c'era un tempo di cacca ventoso ventoso bravo guarda Davide Cesaroni mettiamo mi piace a questa live sì assolutamente ragazzi siete degli stronzetti in chat perché avete scritto le parole che ha confuso Paolo io stavo morendo alla fine della diretta vanno tutte riepilogate chi le indovina tutte non c'è non si sa cosa ma comunque voi allora precisiamo precisiamo che Aru aveva un problema sull'arteria iliaca non la venasa fena perché la venasa fena porta via il sangue invece a Aru non gli arrivava sangue e quindi è un'arteria iliaca però vabbè guarda io non so loro come abbia fatto a tenere botta perché addirittura lui è uscito proprio io sono abituato anche se facciano ragazzi anche se a scuola mi beccavano sempre perché ridevo però ormai no no comunque insomma ci ha detto un sacco di cose interessanti direi anche un po' di spunti ci ha lasciato anche di Landa che non deve essere sotto pressione ragazzi chi vuole venire a fare il trittico del Serra a giugno ci dovrebbe essere come tutti gli anni il trittico del Serra è organizzato qui da un'associazione locale e quindi sicuramente lo farò e trittico del Serra a giugno chi lo vuole fare c'è le medagliettine poi lo organizzeremo noi esatto venite con la maglietta di Fantasai compreremo quell'organizzazione scussa che organizza questo trittico e faremo una grande gran fonte un applauso a chi lo organizza un applauso a chi lo organizza in primis seconda cosa venite col completino Fantasai in chi viene perché insomma quello nuovo che uscirà in settimana quello nuovo che esce in settimana sì sì assolutamente c'è un completino nuovo quindi quindi venite con quelli così sono bell'attività dopo parliamo anche di Bob Jungets perché oggi si è corsa una gara intitolata Bob Jungets Bob ne parla tutto il mondo conoscere l'organizzatore che ha addirittura sprecato un nome di una gara per Bob Jungets però vabbè poi mi sembra di sapere chi è l'organizzatore di questa gara un grandissimo paolo sì ragazzi comunque è stato un corridorone per gli anni che ha corsa un signor gregario un signor gregario un contadorre allora io partirei io oggi sono andato in bici perché metti tutti questi messaggi con tipo 8.000 punti esclamativi 6.000 in maiuscolo in maiuscolo sì ma te in bici ho toccato i miei primi 30 km bravo però che media hai fatto è quello che ti conta Malaguazzini ha vinto sì 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 assolutamente infatti verrà ospite a breve con l'Alzini sicuramente coppia d'oro ho avuto difficoltà a fare la scala di sede ancora per i posti del covid hai già fatto qualche esame con te no ancora non l'ho fatto però comunque sono sempre monitorato con cardiofrequenzimetro eccetera eccetera e ho una barra due pulsazioni in più solo che io non c'evo diciamo la soglia l'avevo a 174 ora ce l'ho a 175 quindi però non so se causa covid o no però insomma sto abbastanza bene però per un mesetto non sono andato sono andato poco poco tra l'altro anche Mauro il fratello di Michele con cui ero sabato mattina mi ha detto che lui un anno fa ha avuto il covid e a distanza di un anno ancora non ha ottime sensazioni in bicicletta comunque mi va via anche se non ha buone sensazioni ok si faceva si faceva il serra il secondo serra da Buti e si parlava io parlavo poco lui parlava tanto e si andava uguale però se lo avesse parlato come me probabilmente avrebbe staccato abbastanza facilmente ma quindi ora dopo l'osco allora perle di piazzano no perle di piazzano scusami arrivano le pagelle di piazzano come saranno oggi le pagelle di piazzano non lo so guarda io ora per video non l'ho ancora visto però perché ieri erano camminate io ho visto erano camminate era bene ragazzi le pagelle di piazzano ragazzi le pagelle di piazzano aspetta che vorrei fare anche uno screenshot perché piazzano è bello si presenta bello vediamo un po' no ho sbagliato capo regia arriva lui bello 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 esatto aspetta questo video utilizza no supportato dal browser per convertirlo in un codec in contatto ci sia bisogno di assistenza che lavori sono che è successo che video ti ha mandato ma come mai ma cosa hai fatto mettiamole in bassa mettiamole aspetta perché io devo convertirlo perché è un mov punto mettilo in mp4 scaricalo te manda te l'ora ce l'hai l'accesso qua per mettere allora no non ce l'ho aspetta individui schermo aspetta forse così aspetta forse così attenzione forse ditemi se sentite l'audio sentite basso piano piano alza alza non si può più alza questo è il massimo ragazzi ho sentito in chat l'audio fatemi sentire un attimo aspetta fallo partire la deve ringraziare soprattutto morcov e ballerini per quello che va bene però negli ultimi 300 metri c'era lui va bene lo sentite l'audio in chat più o meno no la gente dice no vede no dico scrive no 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 bassissimo niente audio poco ma si aspetta prova a scaricarlo io allora lascia allora aspetta lascio piazzano così un pochino perché si presenta con una faccia interessante va bene questa però cattiveria però dicono dicono sì ora meglio dicono sì ora meglio sì meglio sì no ragazzi te ne d'accordo ragazzi ma state guardando tutti la solita diretta non lo so sì sì no sì sì ci prima per il culo evidente la seconda volta si sentiva meglio questo questo fanno anche bene tra l'altro non è che allora aspetta provo a scaricarlo io ci vuole una seduta una seduta psicologica sì tra l'altro sì sì infatti tra l'altro perché ma non in Italia non in Italia dove in Bulgaria in Bulgaria assolutamente in Bulgaria aspetta allora faccio la storia su Instagram tipo siamo live con le pagelle di piazzano vediamo quante offese prendiamo siamo live oggi è tornato Matti French quindi è già informissima sì sì pagelle di e ci tango anche Marcello piazzano che tra poco arriva tra le altre cose Marcello perché non me lo trova eccolo qui Marcello piazzano allora siamo live con le pagelle di Marcello piazzano vai aspettate ragazzi si arriva Lore riesci a convertirlo te così lo metti lo condividi come Lorenzo ti sei mutato hai elevato il microfono attenzione mi sono mutato perché stavo stavo ascoltando aspetta vedo se riesco a condividere io il video se lo togli provo io a condividere allora aspetta vabbè ci vuole ancora un po' di tempo ce la facciamo ce la facciamo la roba la roba la roba psicologica c'è un attimino spessato allora possiamo allora prima prima delle pagelle di piazzano piazzano possiamo far vedere innanzitutto i tre i dodici corridori che hanno fatto più punti in questo in questi tre giorni di giro d'Italia non so se sono già arrivati eccoli qua allora Lorenzo vai enunciali ma eh sono un po' lontanucci allora aspetta te ne zoom non vedo i numeri te ne zoom ora lo vedi meglio Mattio ah ok adesso sì adesso sì beh Mattio Van Der Poel ovviamente leader di questa mini classifica ha fatto ha totalizzato 338 punti ha vinto la tappa si è piazzato nella cronometro quindi bene 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 anche Ghirmai 175 punti Cavendish 125 li ha fatti praticamente tutti oggi giusto perché la prima tappa è arrivata un po' dietro Simon Yates anche lui 125 e poi il duo della Drone Hopper che ha fatto su tre tappe due fughe con Tagliani 114 e Mattia Bais 106 e a seguire De Mar Kelderman Sobrero Peio Bilbao Tom Dumoulin e Fernando Gaviria quanti ne avete di questi ragazzi scrivetecelo in chat eh questo è interessante quanti ne avete io di questi purtroppo non ho Van Der Poel due tre io ho Ghirmai Cavendish Yates quattro ma nel campionato nelle varie ma in generale in generale in campionato in campionato allora io vi dico campionato Van Der Poel Ghirmai Yates De Mar basta a te non si è caduto nell'altranello del mullà di non prendere Yates perché lui ha usato un tranello meschino no l'ho preso io ma io allora come ben sai non ho molti cambi per il Giro d'Italia mi sono un po' quanti cambi ti è rimasto Lore quanti cambi ti è rimasto mi sembra sei non sono sicuro beh comunque ho 80 c'è già la formazione fatta io avevo preso un po' Gassar l'ho tenuto ho preso già gente per il depinato e avevo lasciato insomma un po' di gente Van Der Poel ce l'avevo l'ho tenuto e quindi insomma l'avevo tenuto dovevo prenderne tre e ho preso quelli tra virgolette favoriti nel senso sono andato sul sicuro ma sul sicuro non si va mai però ho detto prendo quelli più gettonati e ho preso Yates Almeida mi pare e poi ho preso Bardet perché ci credo eh Bardet l'ho preso anche io sai però Yates l'ho preso perché comunque diciamo tutti che era il favorito Almeida l'altro favorito Carapazzo l'hai preso giusto? no scusami no non ho preso Almeida ho preso Carapazzo Yates Carapazzo che poi mi faccio confusione Carapazzo Yates e Bardet non avevo soldi per prendere Almeida io ho paura che Almeida in una delle prime tappe difficili possa prendere una mini micciola no poi lui no perché lui un diesel recupera per me si sta gestando io la penso come il fede sai la penso come il fede cioè l'ho visto poi oh magari no sei riuscito a convertirlo Lore ma ce l'ho ce l'ho se vuoi aspettavo che tu togliersi la grafica mettiamo le pacelle di piazzano vediamo se va ecco se si va lo posso gestire anche io volendo da qui guarda gestisci ringraziare soprattutto Morkov e Ballerini aspetta aspetta si rimette dall'inizio ora funziona allora allora Lucon presenta le pacelle di piazzano dai signori e signore le pacelle di Marcello piazzano deve ringraziare soprattutto Morkov e Ballerini per quello che hanno fatto però negli ultimi 300 metri c'era lui con le sue gambe voto 10 Mark Cavendish velocista senza squadra sicuramente quello che deve saltare da una ruota all'altra però al momento sembra essere l'unico avversario credibile dell'inglese voto 7 Arnaud de Mar ha un motore fantastico ma gli manca ancora vista l'età l'esperienza nel buttarsi in queste volate comunque ci divertiremo in futuro voto sei meno meno perché ormai distratto forse emozionato forse troppo responsabilizzato aveva anche un bel treno con la maglia rosa Van Der Poel ma non ha fatto un granché bene voto 5 per Maresco francamente mi aspettavo qualcosa di più adesso gli rimangono solo due volate a Caleb Iwan voto 4 e mezzo oggi qui qui siamo d'accordo probabilmente allora su Caleb Iwan sì allora ripetiamo ripetiamo i voti Cavendish 10 va bene Gemar 7 Girmai 6 meno o meno Girmai 6 meno o meno poi c'era no aspetta ne diciamo tutti Maresco 5 e Iwan 4 e mezzo sono 5 pagelle Girmai allora i primi due si stanno 10 forse Cavendish un po' troppo però Maresco scusate la sua ognuno dice la sua e poi dite la vostra nei messaggi io dico la mia inizio Cavendish 10 troppo per me 8 va bene comunque vince 8 De Mar 7 però senza squadra non ce l'ha Guarnieri questo giro scusa non lo so perché non l'ho seguito molto però c'è c'è quindi insomma senza squadra ce lo vorrei avere io senza squadra e avere Guarnieri poi Girmai direi tra l'altro si è presentato nella presentazione con un polsino inneggiante a insomma vabbè una roba politica li corre chi Girmai no no guardieri no guardieri Girmai direi almeno almeno 6 e mezzo almeno ma anche 7 maresco arriva quinto almeno a sufficienza gliela darei quindi non 5 e e poi Iwan invece giusto perché uno che costa così tanto la prima volta è accaduto stavolta quindi per Iwan giusto abbiamo aspetta un secondo Girmai è una gamba eccezionale è rimasto un po' chiuso ed è arrivato comunque quarto per cui un voto secondo me che non ci sta sugli altri può andare forse si Cavendice avrei dato 9 perché grosso lavoro l'ha fatto la squadra per portarlo lì però prendiamo le pagiare di Piazzano perché poi è arrivato tiralongo e non abbiamo continuato la disamina della volata di oggi e su questo scrivete le vostre scrivetele magari anche altri voti di altri personaggi allora Girmai se non lo chiudevo infatti Girmai oggi ha smesso di pedalare tre volte cioè allora è da solo perché nessuno aiuta a fare le volate non è un velocista puro ma è arrivato quarto smettendo di pedalare tre volte probabilmente lui ha sbagliato la posizione perché era una posizione in cui non gli consentiva di uscire dalla scia di qualcuno è rimasto lì dietro è stato sì trainato dalla scia di Cavendice De Mar e Gaviria perché era subito dietro alla ruota di Cavendice però non è riuscito a uscire perché c'era appunto Gaviria e scusate De Mar ho detto Ivan forse prima De Mar e Gaviria che diciamo lo chiudevano a destra a sinistra perché se no Girmai secondo me aveva le gambe per poter dargli fastidio a Cavendice non vincere magari ma dargli fastidio quindi Girmai non ha squadra è giovane non è un velocista puro ha fatto quarto l'unica cosa che gli si può imputare è che ha sbagliato la posizione diciamo degli ultimi 150-200 metri ma cazzo insomma è arrivato quarto voglio dire quindi io Girmai gli do un 6,5 abbondante forse anche quasi 7 sì sì 6,5-7 dai si sta forse in questo modo concordo è una provocazione per dire può migliorare deve migliorare in un aspetto quello dell'esperienza però esatto però manca il voto inizioso esatto ma qui hanno capito il motivo guarda Matti French l'ha beccato perché è interessa è interessa ce l'hai come la squadra ce l'hai come la squadra dei mari dicono e Maresco io mi sento di dire allora Maresco per come è arrivato a questo giro d'Italia un quinto posto per ora va benissimo perché comunque non è che si presentava forse se noi guardiamo tutti i velocisti che ci sono Maresco fa fatica ad entrare nella top 10 ad oggi poi i numeri ce l'ha Maresco però per la condizione con cui si è presentata a questo giro d'Italia non è nella top 10 beh quinto posto onorevole direi quindi per me per me va bene insomma ci sta ampiamente sufficiente è chiaro c'ha un bel treno anche lui però è un treno come si diceva prima inesperto cioè non ha una qualità si ha una qualità Van Der Poel Oldani è un treno di qualità ma non hanno coesione non hanno esperienza nel pilotare si si devono un po' fare è capito quindi secondo me ci sta assolutamente un quinto posto va bene alla Willy Zeni dice KV19 Demart 7 più Girmai 7 Ewan 4 anche Ewan boh l'avete visto 4 più 4 più è per l'incoraggiamento la fiducia 4 più è perché 4 inizolo 4 più Ewan capito perché è arrivato ottavo Ewan ragazzi per quello che che poi giustamente è quotato così tanto perché sulla carta è uno dei 3 più forti del mondo dai come velocista puro quindi uno se immagina quick step quick step no no boh ha deluso anche me Ewan però io non l'ho comprato quest'anno non ci sono caluzioni costa troppo sinceramente sapendo che deve finire il giro dopo una settimana o 10 tappe infatti il costo di Ewan è perché uno se vuole portare un velocista al Tour de France che Ewan a Tour de France lo finisce lo prende ora se non cade lo finisce perché c'è la volata a Parigi e tutti vogliono arrivare a Parigi allora a quel punto lì diventa interessante perché Ewan ha più o meno al solito qualcosina di più rispetto a Philipsen e Jacobsen quindi chi? di quei tre è Ewan Ewan Jakobsen Jakobsen di oggi come costo ah come costo scusa ho capito come valore di corsa Philipsen Jakobsen e Ewan sono lì come costo a Tour de France probabilmente per motivi di budget nessuno si potrà permettere chi è davanti chi è milleniesimo magari si tutti e tre ma nemmeno due forse perché spendere 80 per Jakobsen o Philipsen Ewan o Philipsen o Jakobsen meglio prendere un calciatore di tappe capite vero è che rispetto al giro al Tour forse lo finiscono comunque arrivano più avanti no ma dicevo che il prezzo di Ewan è tarato per il Tour de France perché il Tour de France quei tre velocisti lì tutti ne prenderanno uno almeno poi c'è anche Van Aert come velocista diciamo se vogliamo proprio andare a vedere ce ne è anche altri ce ne saranno anche altri chiaramente ce l'ha anche Bennett che è tornato ha vinto a Falcoforte quindi ha dato segnali incoraggianti domanda ma in Bayern si prenderà qualcosa o dobbiamo una segnalazione inesimo purtroppo nella live che abbiamo fatto se volete recuperatela a inizio no a fine anno scorso dove si si è avuto la Marei la Quickstep e lo stesso Bramati insomma l'ha detto che il ballero avrà le sue occasioni ma nell'ottanta per cento dei casi il ruolo è suo è quello spiace però spiazze ma è così spiazze starà gufando ora in questo momento perché starà lì che guarda il Milan che tanto però ha segnato ragazzi doppietta di Tonali 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 on fire goleador aspetta lo sto guardando ora ve lo racconto tipo quelli che è il calcio Leao Leao salta barac mette in mezzo Tonali gol uguale praticamente Tonali in area e Leao che fa l'assist due gol uguali hanno fatto con questa vincono lo scudetto ragazzi se chiede il Milan esulti parentesi calcissica finita subito immediatamente finita chiusa e mai più riaperta Cavendish 9 soprattutto perché si parla di Milan Cavendish 9 De Mar 7 e mezzo Cavendish 7 e mezzo Consonni Danese 6 Bauhaus 5 Nizzolo 5 meno Iwan 4 e mezzo queste di Ucgenio secondo me sono abbastanza bilanciate con queste arriva Macello Piazzano eccolo eccolo dov'è per l'altro macchina ovviamente sto tornando a Milano le tue pagelle hanno messo tutti d'accordo Marcello allora non ho raggiunto l'obiettivo ovviamente ero preso in giro no no scusa Marcello ma Nizzolo che voto gli dai oggi beh Nizzolo li diamo 4 4 e mezzo non lo so ok ok perché la gente sarà un po' lamentata che non l'hai nominata no allora con Lorenzo Lorenzo Marrucci ci eravamo messi d'accordo in sceglierne 5 cioè 5 in 50 secondi era questo il form ecco ecco sai già già sceglierne 5 non è facile quindi c'è quindi tra i flocconi ragazzi ragazzi Nizzolo che steg è un fatto diffuso ultimamente purtroppo purtroppo per lui quindi non mi sembrava una cosa così incredibile magari può aver fatto pensare alla storia di Marecico però io vedo una maglia rosa altisonante come Van Der Poel che per un certo tratto tira Marecico poi si gira non lo trova più cioè io ho preferito mettere Marecico nella cinquina che poi magari anche sono nostalgico tutto il resto però quando era con Scinto e Citracca faceva bene le volate nel momento in cui ha lasciato Scinto e Citracca ce lo siamo persi un po' come Guardini nel momento in cui ha lasciato la Farnese ha vinto soltanto Punto cioè io la vedo così Marcello dobbiamo chiederti ho addormentato Caratini no no sto guardando concentrato concentrato il perché del voto a Ghirmai sei si sta un po' severo no ma perché cioè allora tutti noi siamo andati a scuola quando le maestre o i professori ci dicevano tu hai del potenziale potresti fare di più che voto ti davano 5 a 6 6 meno 5 e mezzo cioè lui il potenziale ce l'ha deve ancora scoprire se è un velocista puro se è un velocista passista se è un velocista che tiene deve ancora capire cosa vuole fare da grande sicuramente fortissimo oggi ha peccato di inesperienza è rimasto introppato nel nel traffico anche De Mara è rimasto nel traffico però è riuscito ad uscirne De Mara ha più esperienza di Ghirmai cioè questa è la mia è la mia visione poi sai non è che dobbiamo essere tutti d'accordo sui voti non voti cioè a me l'hanno insegnato a Mediaset cioè le pagelle sono fatte per discutere chi te l'ha insegnato il professore chi era il professore non dico il nome sennò poi mi arriva una palanca di insulti i nomi non si fanno però ti chiedevano invece ti chiedevano invece non è tanto alto no esatto ti chiedevano invece la spiegazione del 4 e mezzo a Carapaz di ieri di ieri perché 4 e mezzo comunque non è andato male non è andato male cioè nel tratto in salita cioè nel tratto in salita tu devi andare lì come un forse nato cioè corri alla Ineos ti danno 300 bici da crono ti fanno la galleria del vento anche quando vai a fare colazione per imparare la posizione a cronometro anche il più scarso degli scarsi della Ineos va bene a cronometro ieri poteva salvarsi un attimino in quel chilometro e mezzo è andato all'incontrario ci ha fatto meglio Rick Zapp non era Paolo Giuliani no no era Pisto ragazzi ci giunge la notizia Ferrari morta Alberto si sta obbriacando da disperazione non lo so come sta andando Ferrari male io non sentivo che era davanti era davanti Leclerc fino a 10 minuti fa però sai 10 minuti fa nella Formula 1 è una vita GP Miami Vestap in prova la fuga su Leclerc secondo perfetto allora è entrato il VRS i cambi delle gomme c'aveva una gomma più vantaggiosa la Red Bull diciamo Marcello il discorso legato a Carapaz era per il fatto che ieri più che Carapaz quello che ha performato pesantemente hanno detto è vero è vero è Maurizio è stato Yates che è andato diciamo oltre rispetto alle previsioni Carapaz è nato più o meno nella media non essendo un cronoman poi se tu hai visto nella salita finale che ha fatto un po' più di fatica degli altri però Lorenzo ha preso anche una quindicina di secondi a Nibali Carapaz per me è una delusione Marcello ascolta fai un appello per mettere mi piace che siamo in 250 e passa su YouTube poi ce n'è anche sul Twitch però su YouTube siamo in 250 e passa e solo 149 mi piace quindi devi lanciare però mi piace devi lanciare tipo un appello tipo non so qualche diarrea qualcosa che dicevi no bisogna cambiare bisogna cambiare allora se non raggiungiamo entro le 22 e 20 cioè 10 minuti i 200 mi piace diventerete tutti astemi non vi verrà servito mai più nella vita comunque alla RR alla RR ti so strane Marcello perché dice Carapaz ha fatto schifo ieri 97 nel tratto in salita cioè il migliore chi è stato? Zabel Rick Zabel Rick Zabel ha fatto forte solo quello Rick Zabel cosa ha fatto? è andato a piano e poi dopo secondo me il preparatore di Zabel è il maiale del selvatello gliel'ha suggerita lui ma che secondo me vabbè ma secondo me è stato proprio il maiale a prepararlo come si chiama i dolci che faceva quel giorno che non mi ricordo mi faceva ridere come nome la schiacciata di Pasqua e come si chiama? la schiacciata di Pasqua no c'ha un nome no si chiama la schiacciata di Pasqua la schiacciata di Pasqua si chiama la schiacciata di Pasqua si chiama mi ricordo la donna di mia amore che parla di Befanotti no no era la schiacciata di Pasqua dunque Fede voto Almeida allora Almeida gli do un 6 se è un Almeida versione risparmio e non sprecare energie se invece ha un po' toppato gli do un 5 5 e mezzo perché nella prima arrivo nella crono l'aspettavo 5 posizioni più avanti in entrambe le tappe questa è forse la crono va analizzata è una crono tecnica piena di rilanci tante curve e una rampettina al 14% che non favorì cioè dopo una crono secca dopo tanti rilanci alla seconda tappa di Gio d'Italia corta poi c'è questo strappettino al 14% un po' in lastricato e poi c'è questa salitella sul finale è atipica è atipica 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 cioè Van der Pooh non è uno che su una crono da 20-25 km ti arriva nei primi 2-3 impossibile e nelle crono corte e tecniche questo è la ciclocross è quello che ha detto il magro è quello che mi ha detto il magro bravissimo nelle crono tecniche dice la sua e secondo me Almeida al contrario nelle crono dove magari c'è 20-25 km da cronome qui c'è da spingere fa il suo nelle crono tecniche Almeida secondo me non è uno che rilancia la bicicletta come Van der Pooh lui c'ha niente a che vedere comunque è arrivato undicesimo se non sbaglio ma non è arrivato male non è arrivato male ha fatto il suo ha fatto il suo era una crono tipica ma poi Fede lui deve deve modellare la situazione legata alla forma sulle tre settimane tu mi dirai anche Yates infatti Yates è stato estremamente sorprendente Almeida invece ha una tattica per arrivare per andare a coprire quello che è stato il buco del passato cioè deve essere in forma nella terza settimana se vuole raggiungere se vuole prendere il podio è estremamente sorprendente però molto da Yates questa cosa cioè di partire fortissimo poi prende undici minuti un giorno poi l'altro giorno fa il vuoto undici minuti sono quelli che sono ancora nella testa del Mullah no no speriamo di no chiaramente per lui però c'è Marcello vota Vanenden vota Vanenden Vanenden ero lì che lo vedevo che chiacchierava con Affini ieri ma non è andato malaccio forse ha beccato la pioggia all'inizio era lì davanti infatti ho detto vai ora lo becca davvero Vanenden invece poi è andato un po' indietro ma no il mio uomo doveva essere Encorna anche lui ce l'ho nella formazione cioè non schierato però nei miei nei miei corridori della mia lista Simone dice proprio per queste caratteristiche della crono Nibali ha fatto tanta roba esatto mi sto ridendo perché è il mio idolo però occhio ragazzi anch'io sono più sorpreso da Nibali ragazzi comunque Nibali è arrivato davanti di nove secondi a Carapazze nove secondi ok grazie ok grazie partì a crono forte anche nel 2019 che era la crono quella su San Luca vediamo sì esatto però quella di San Luca non è paragonabile a questa questa è paragonabile a quella di Gerusalemme era più lunga quella di Gerusalemme però aveva delle attinenze cioè un rilancio unico poi era molto più vallonata quella di Gerusalemme però ad esempio a me deluso Dumoulin questa cronometro quella di ieri se ci fosse stato e Beneful l'avrebbe vinta l'avrebbe vinta allora io su Dumoulin no perché Dumoulin non è uno che rilancia la bicicletta bene dopo le curve però a Gerusalemme ha fatto il vuoto però a Gerusalemme aveva fatto il vuoto ma a Gerusalemme non era così tecnica Marcello era molto molto tecnica era molto tecnica e poi c'era dei saliscendi ma io non me la ricordo così tecnica però magari poi ho un vuoto di memoria io aveva aveva tanti saliscendi però c'erano tanti rilanci c'erano tantissimi rilanci da fare Dumoulin come arrivò in quella cronometro? la vinta la vinta aspetta allora vediamo un po' quando era? era più lunga 2018 allora probabilmente fosse stata più lunga anche questa ma Marcello si parla di 4 anni fa comunque questo è un altro Dumoulin chiaramente però aspetta quanto era lunga quella cronometro lì? allora quella cronometro lì era lunga era lunga se ve lo dico subito era lunga 10 km ah ok non era per niente vallonata per nulla era un piattone di 10 km ma scusa ma sei sicuro Flus era magari però a livello planimetrico c'erano tanti rilanci vi condivido lo schermo vi condivido lo schermo ma io allora ma io l'ho fatta in macchina chiaramente quando sono andato a Gerusalemme ed era un discreto saliscendi perché comunque Gerusalemme è collinare come città comunque allora la lunghezza era 10 km e allora si presentava qualche curva però non è paragonabile alle curve secche tecniche che c'erano ieri e poi non c'erano strappi in salita quindi secondo me Dumoulin non è uno che con una salita secca forse dei ricordi diversi è capito riesce secondo me non era una crono adatta nemmeno al miglior Dumoulin ti dico la via però a me è piaciuta fa bene perché ha vinto l'argento alle olimpiadi era una cronometro con degli strappi si però era lunga è uno che a un certo punto è quindi puoi no meno di 40 però comunque puoi puoi spingere puoi far girare le gambe e tirare il rapportone ieri non c'era possibilità di mettere il rapportone cioè ieri era il rapportone per qualche centinaia di metri frenavi scalavi nei quartieri capito ecco perché gli Aids se bastava guarda un rettilineo di 4 km invece di 7-8 curve ci mettevi un rettilineo di 4 km gli Aids arrivavano a dodicesimo poi un corridore leggerino magari anche il mezzo meccanico anche il body da 3-4 quanto 1.000 euro era 2.000 euro il body gli Aids sono tutte quelle cazze guarda parlavo con un biomeccanico l'altro giorno un po' di tempo fa quando andai a mettermi in posizione per la bici da crono per l'Ironman e mi diceva che praticamente anche lui aveva fatto negli studi in una galleria del vento che la posizione frontale quindi questa posizione qui da cronomen il casco cioè avere un casco di un certo tipo rispetto a un casco normale fa guadagnare da 1-2 secondi al chilometro chiaramente se spingi un certo tipo di rapporto quello di Roglic sì quello di Roglic quello all'indietro per farti capire che è chiaro nell'amatore avere il casco da amatoriale della domenica avere un casco da crono iper mega super aerodinamico ti fa guadagnare forse uno 0,5 chilometri orari però un professionista che fai 45-50 all'ora agili anche di più avere un casco di un tipo di un altro ti fa guadagnare quel qualcosa e anche un body di un certo tipo rispetto a un altro ti fa guadagnare qualcosa quindi cioè tutte quelle voi vi ricordate prima della crono voi vi ricordate prima della crono di Marsiglia al Tour de France c'era Frumi in maglia gialla e lui voleva aveva chiesto una deroga al regolamento e usare un body dipinto di giallo del suo marchio di abbigliamento un marchio italiano chiaramente non dico il nome perché noi siamo legati a P6 questo body qua era un body della madonna perché c'aveva dei pallini che sembravano performanti a livello aerodinamico sull'impatto frontale soltanto che quelli della maglia gialla che è una marca francese avevano fatto un body che era normalissimo cioè l'avevano definito un pezzo di stoffa perché era il primo anno che facevano questi body qua dal ciclismo aprì di cielo era venuto fuori un bordello un casino terribile poi alla fine sono riusciti a convincere Pruma a rispettare il regolamento però cioè il body ti fa la differenza ma anche in pista in pista Ganna Cassani ne hanno parlato più volte di quella che è la differenza di un body cioè bisogna prestare attenzione veramente alle come si chiama alla tecnologia dei tessuti perché quello ti cambia completamente sì ma è solo i marginal gain che poi anche secondo me ieri più che il tessuto queste chiamavole cagate a livello no secondo me contava tanto il mezzo cioè avere un mezzo performante che fosse rilanciabile dopo ogni curva e guarda io l'ho visto con Carapazzo Carapazzo l'ho visto in difficoltà sulla salita perché non riusciva non riusciva ieri l'ho rivista anche ieri notte prima di addormentare me l'ho visto l'ultima mezz'oretta si vedeva sul tratto i gusti macabri sì non riusciva a rilanciare quando si è alzato su pedale non riusciva a rilanciare la bicicletta aveva un po' di difficoltà però boh è arrivato il diciannovesimo io penso che non abbia performato malissimo poteva andare meglio sicuramente ma quel voto che ha dato Marcello ieri era a mio modestissimo parere cattivello però si fa per discutere ieri ieri aveva anche le pulegge ario per i direttori aeroidinario sì puleggia il mezzo di Yates e tutta l'infrastruttura che hanno utilizzato sicuramente ha pagato ha ripagato perché ha fatto una grande prova vediamolo lo Yates pimpante fin da subito è preoccupante per i trascorsi esatto bravo perché quando andava forte quindi un block house prende 16 minuti no la mia paura è il mortirolo o la tappa del fedaia no magari la prima settimana fa il fenomeno lo Yates ce lo ricordiamo nel tour nel giro di Carapaz dove partì a San Luca fortissimo e poi scomparso nel giro nel giro nel giro di Froom dove era a maglia rosa fino al collo delle finestre e poi per 77 minuti e poi anche lo scorso anno sì anche lo scorso anno che comunque l'anno scorso è un altro Yates hanno uno Yates a corrente alternata oggi vado bene domani mi stacco dai primi tre quarti lì dipende da quando si scambiano i gemelli sì quando va uno e va l'altro ma lui è il gemello giusto ora poi però quando arriva l'altro è il problema segniamoci a questa Yates e la blockhouse come viene perché non arriva a bastogno eh segniamolo io cioè Yates in teoria poi ho paura tanta ma Yates è la maglia rosa ombra in teoria eh tanto ombra no secondo me perché allora no intendo potrebbe essere la maglia rosa sull'Etna ah dici che la prende subito guardando quelli che la classifica di adesso se io vado a sorporare quelli che sono i velocisti i passisti e i cronomen cioè quelli che hanno fatto la corsa in questi primi tre giorni resti con i top rider lui lancio un quesito dei due pretendenti maggiori sono tre mettiamoci al media però mettiamolo da parte Yates e Carapaz considerando che i grandi giri sono tutti e tre alla solita diciamo si eguagliano quindi giro, tour, o vuelta sono tre grandi giri senza fare differenze dei tre ad oggi chi è che ha più esperienza perché allora vado a memoria Carapaz ha un giro un podio al tour e un podio alla vuelta o due podi alla vuelta un podio alla vuelta mi sembra mentre Yates ha una vittoria alla vuelta quindi non il giro come Carapaz ma la vittoria alla vuelta e ha un podio al giro o tre la vittoria alla vuelta e stop quindi ha due podi in un grande giro mentre Carapaz tre è corretto? La vuelta ha un podio che è la vittoria no la vuelta lui ha fatto seconda Simon Yates dicevo Simon Yates ha vinto la vuelta nel 2018 si e poi c'ha il podio al giro dell'anno scorso è arrivato terzo al giro d'Italia nel 2021 basta bravissimo mentre Carapaz ha podi in tutti e tre i grandi giri ha vinto il giro e ha fatto anche un quarto al giro 2018 che è l'anno primo che lo vincesse giusto? esatto esatto quarto poi l'ha vinto il 2019 poi ha preso il podio alla vuelta nel 2020 di Atar Roglic e poi nel 2021 a Tudef ha servito terzo quindi ragazzi onestamente ha vinto anche il giro di Svizzera la maglia rosa in teoria la vedo più su Carapaz ma perché basta vedere la storia del corridore ha vinto quarto al giro vince il giro si va in anno in anno 2018 quarto al giro 2019 vince il giro 2020 seconda la vuelta 2021 terzo al tour è vero primo secondo terzo molto più costante molto più costante e bisogna dire che seconda la vuelta dietro Roglic in grande forma anche se poi l'ultima etapa rischiava di vincere la Carapaz quindi arrivò a seconda a 20 scuola fosse stata una tappa in più era la famosa tappa in più che non c'era che non c'era e poi al tour de France è arrivato terzo dietro Pogaccia altro pianeta e dietro Wingergord di un minuto e qualcosa mi pare però quel Wingergord diciamo diciamo che Carapaz è dal 2018 che va forte e più o meno quando ha corso per dichiaratamente per fare classifica per un obiettivo o l'ha centrato o ci è andato vicino Yates ha dimostrato di poterli raggiungere quegli obiettivi però ha raggiunto forse tra i tre grandi giri quello minore perché ce le vogliano gli organizzatori alla vuelta ma il tour è al primo posto il giro ce lo teniamo subito dietro e poi la vuelta e poi anche grandissime giornate cosa che Carapaz difficilmente invece ha avuto in questa sua cardiera correggetemi Carapaz l'ha dimostrato anche alle Olimpiadi che non è una corsa di tre settimane però è una corsa cazzuta lui praticamente ha corso da isolato come si diceva un tempo e ha vinto le Olimpiadi cioè in una situazione comunque molto complicata perché lui arrivava dal Tour de France e da tre settimane di frustrazione di stanchezza perché era diventato nel corso del Tour de France il capitano super della sua squadra la Ineos con tutte le pressioni annesse connesse cioè secondo me Carapaz è il migliore il più spendibile dei normodotati dei normodotati suona un po' male no 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 suona benissimo perché gli altri sono extraterrestri perché poi ci sono gli extraterrestri quindi lui è il migliore dei normodotati se la giocheranno tra di loro senza dubbio sulle salite però anche la squadra comunque conta il peso della squadra la Ineos sappiamo di cosa stiamo parlando la squadra di Eitz deve fare sempre fare tutto da solo quindi anche quello poi alla fine pesa nel senso della tattica di gara prima di guardare l'altimetria della tappa di martedì facciamo un po' premiamo un po' i vincitori della tappa di oggi giusto poi tanto saranno premiati un iPhone 5 no no premiamo nel senso elenchiamoli poi domani domani su Black Channel invece faremo diciamo guarderemo le fantaclassifiche ad oggi quindi andremo a guardare i primi di ogni fantaclassifica di tutte le tre tappe allora lega esperienza lega esperienza abbiamo primo Joyful Cycling Team e non so poi cosa c'è su DFT DV Team e Amherst 570 punti formazione vincente di oggi di Joyful Cycling Team notare le maglie sotto cosa ah sì tutto IWA tutto IWA sì 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 questa è una formazione dichiarata per velocisti quindi lui punta a vincere le tappe questo è l'obiettivo della lega esperienza tra le altre cose quindi lui ha comprato tutti i velocisti magari se si arriva a sette volte in volata non è detto che magari possa vincere davvero il giro a livello dei fantaculti mai dire mai è dura è dura è dura però ha provato questa formazione poi abbiamo la lega discovery con ciclo Tevere Sabina 570 punti su Joyful Cycling Team quindi è arrivato il secondo Joyful Cycling Team con la solita formazione che ha schierato probabilmente nella lega esperienza ma stavolta è stato battuto da ciclo Tevere Sabina perché perché probabilmente ciclo Tevere Sabina ha schierato prima la formazione quindi schierando prima la formazione chi prima arriva prima alloggia quindi ha perso la prima posizione quindi la vittoria va a ciclo Tevere Sabina Almeida Van der Poel Yates Magnus Dumoulent no ho sbagliato la formazione questa è la stage 2 la 2 la 2 la formazione dello stage 2 questa l'ho toppata dopo la rimettiamo l'ho toppata io mentre questa è esatta mentre Joyful Cycling Team vince anche il campionato quindi ha fatto ma anche qui c'è stage 2 però ho sbagliato a scrivere stage 2 in realtà è lo stage 3 stage 2 ma questa è giusta è giusta è giusta è stage 3 sì l'ho fatta al volo ora mentre sarà qui a chiacchierare lo volevo far vedere certo che Iwan con tutte le maglie fa ridere ma è il solito è Joyful è Joyful Cycling Team ragazzi Joyful Cycling Team che lo stage 3 è come il meme di Pirlo Pirlo sorride Pirlo pensa Pirlo è triste Pirlo risate uguale sì sì no a Svizzera l'ho fatto perché l'ho fatto ora al volo ho capito le grafiche quindi non ho corretto stage 3 però è stage 2 sono tutti precisini sono tutti precisini tutti precisini cioè mamma mia so io chi l'ha fatta le grafiche l'ho fatta io al volo facciamo i complimenti a Filippo Gilbert che oggi ha vinto la 4 giorni di Dunkirk è grandissimo bravo complimenti a Gilbert lo portiamo in diretto a Gilbert ce la facciamo parla italiano parla italiano perfetto sì la missione è portare Gilbert in diretto ragazzi Marcello le nostre missioni dell'anno deve essere questa per arrivare a Gilbert ci devo pensare attenzione ci devo pensare una delle missioni entro l'anno è portarla entro l'anno è portarla una delle nostre missioni ce la poniamo come missione allora andiamo andiamo a realizzare la tappa dell'Etna perché poi tanto domani non saremo in onda e quindi andiamo ad analizzarla ora questa tappa che probabilmente insomma come si dice tutti gli anni non deciderà la classifica finale del Giro d'Italia ma ci dirà chi non può vincere il Giro d'Italia classica frase a effetto allora Marcello te non la vedi e quindi io sto guidando vabbè tappa avola si arriva sul Rifugio vero a Rifugio Sapienza è un grande classico si si è un grande classico si prende giù da dove da dove inizia la salita da Biancavilla Paternò Biancavilla Santa Maria di Licodia ma è quella che ha fatto la Sicilia eh no quella è l'altro versante no è l'altro versante questo è quello più facile perché sono tre i versanti sono tre i versanti dell'Etna sì questo è quello più facile comunque parlano da Avola Avola è uno dei posti più belli in assoluto al mondo perché c'è il nero d'Avola che è un ottimo rosso che a tutti noi piace confermo buonissimo sì parliamo fatte di cose serie non decidi quindi se voi non se voi non mettete 200 like il nero d'Avola ve lo scordate lo vediamo solo io e Lucon alla faccia vostra vai ma la tappa è così bassa o discriminata come si discrimina che senso che 1892 ma non so eh allora se mi scrivete in privato io i contatti della lotto sull'A dice Michele attenzione scrivici te su Instagram scrivici te su Instagram noi di social eh 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 tutta volta bella eh ci potete camera in diretta camera ci proviamo eh portare i cibetti dietro dopo averlo offeso più volte no ma no non ci risulta ma chi l'ho preso ma chi l'ho preso ma chi l'ho preso ma forse qualcuno ha detto che era mai andato però è mollare mollare c'è un po' con Gimberto do due dati solo per per la salita dice All'anno Novarica fix Palermo dice sono quattro i versanti non tre Marcello di salita perché era un asfaltato un quarto mi fa piacere non lo so dice uno di Palermo dice uno di Palermo dice sono quattro ma vinse i contadotti uno di Palermo che mi parla dell'Etna a parte il fatto che l'Etna è a Catania cioè in provincia di Catania vabbè comunque allora salita lunga 22 chilometri e 800 metri pendenza media 5,9 massima del 14% ricordiamo che nel 2020 si arrivò però a piano Provenzana quindi l'altro versante Samuel Yates perse tre minuti oltre tre minuti però era un'altra storia esatto lì non stava bene la tappa è letta ma così è uguale a questo passato a trasferirsi all'Ungheria dall'Italia dalla Bulgaria anche dalla Bulgaria no qualcuno potrebbe risentirmi lo prima ha sbagliato allora sì potrebbe risentire perché un utente oggi ci ha condiviso i voli che il Giro d'Italia ha riservato ai corridori e si partirà credo o stanotte o domani mattina la roba del genere allora sono è uno stasera e tre domani mattina sì sono uno stasera e tre domani mattina però ti dico anch'io ho fatto trasferimenti internazionali al Giro d'Italia e ho visto come si allenavano tutto il resto cioè non è che domani escono stanno fuori tre ore in bici si fanno un'oretta in bici cioè loro arrivano in albergo belli freschi belli preparati ora lo metto lo metto non è una cosa così martoriante fermo fermo Michele Brani 99 allora allora lo so che te vuoi far vedere il messaggio io non so chi cazzo sia Emil Herzog o chi cazzo è allora se rivedo un altro messaggio è vero austriaco era non era male siamo costretti a bannare ma era quello che c'era è duro scrivere Emil Herzog sono stati della lotta sudala però se lo banni se lo banni poi come fai lo ho capito era quello che aveva i contatti della lotto esatto sì lui questo banno comunque mi scrive Emil Herzog chi è Emil Herzog che l'ho trovato io l'ho trovato io è uno della team auto Eder non Eder non confondere con Eder tedesco grande Eder del 2004 del 2004 6 ottobre 2004 che corre in questa squadra io pensavo che Michele io pensavo che Michele pensavo che Michele Brani aspetta allora pensavo che Michele aspetta pensavo che Michele Brani volesse spammare Barney 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 sembra Emilio Fed pensavo che stessi spammando qualche due un canale non lo so perché di solito arriva qui che li spammano capito perché io se Emil Herzog non so chi cazzo non la sia allora se a lui io l'ho trovato Emil Herzog ha vinto la corsa della paì junior in Repubblica cieca classifica generale e poi ha vinto un gol chiedoveni e anche international kotbusser junioren etappenart in Germania ha vinto e anche il giro primavera ha vinto il 3 aprile ha vinto il giro primavera San Vendemmiano San Vendemmiano primo Emil Herzog secondo Vlad Van Mechelen e certo Matteo ora ti buto hai rotto per soddisfare Michele Michele Barni Michele Brani Brani Michele Brani 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 comunque Michele porta pazienza siamo vecchi allora sull'Etna salita questa è la salita l'altimetria della salita finale ok presa dal Giro Italia in pratica sono 22 chilometri 2.8 quindi diciamo la lunghezza dello stelvio più o meno ma chiaramente la pendenza media del 5.9% però presenta ampi non si va chiaramente sopra i 2000 ma si va ai 1892 si arriva e c'è solo c'è anche un tratto in contropendenza però guarda Fede io l'ho fatta quella se quella di Contadoria l'ho fatta perché ero lì è quella di Contadoria è quella di Contadoria lì va via la vegetazione perché c'è la lava c'è ai lati della strada la lava però il fatto il problema all'inizio perché se tu arrivi c'è un tempo no ma la lava è il basalto non la lava che scorre è il basalto la lava solida no però ti dico non è una salita così difficile io me la ricordo quando ero vinta a Contadoria vabbè aveva fatto il vuoto ma Contadoria vabbè c'è a stare era l'altra fuori in quel periodo però non è una salita che ti crea questo grande scompenso cioè praticamente il Montepitolo ho ripetuto sei volte cioè non è 5% sì allora l'unico tratto però farà freddo c'è il rischio che faccia freddo sì c'è il rischio che faccia freddo e quello potrebbe essere una discriminante però l'unico tratto che può far selezione è passata la metà c'è un tratto che varia dal 9 all'8% poi c'è un tratto di contropendenza di all'incirca 500 metri e poi c'è subito una bella rampettina a 14% e i successivi 2-3 km hanno una media dell'8.7% quindi diciamo in questo punto qua secondo me si può decidere la la tappa o meglio si può selezionare il gruppettino però chiaramente c'è da dire che mancherebbero alla fine di questo tratto di 4 km all'8.7% mancherebbero quasi 6 km all'arrivo e tutti i 6 km finali soprattutto gli ultimi 3 sono così cioè hanno una pendenza abbastanza ridicola insomma il 5% addirittura l'ultimo chilometro ha una contropendenza quindi praticamente è un tratto in discesa un falso piano quindi negli ultimi 3 km assolutamente non si creerà selezione difficilissimo se la possono fare secondo me l'unico tratto decisivo è il tratto poco dopo la metà dove c'è scritto strada mila milia scusami strada milia da lì in poi si può iniziare a pensare di fare selezione paesaggi lunari e freddo sì sul paesaggio chiaramente senza ombra di nuova c'è la lava la lava secca ti dice Marcello di cui ha molta stima quello Fix Palermo ti dice per Marcello di cui ho tantissima stima allora il primo versante è Mare e Nede il secondo è Milo terzo Nicolosi quarto è Zafferana Zafferana sì Zafferana è quello famoso è famoso perché quando rutta il vulcano Zafferana è il primo comune che viene colpito sai perché dico tre evidentemente l'hanno asfaltato perché parlavano di una quarta strada che era esterrato che era le vie di fuga per scappare noi prima però però no Marcello dicevano che volevano non mi ricordo quale versante arriva su a un certo punto dell'Etna volevano continuare la salita e fare gli ultimi tre chilometri in sterrato quello parlavano di finire la salita con gli ultimi tre chilometri in sterrato sì ci può stare però io mi ricordo che c'era un versante che era in sterrato perché non ci facevano passare poi per chiedere Lorenzo Marrucci fammi una cortesia chiediamo al ragazzo di Palermo che ci sta scrivendo qui in chat manda un messaggio no no dici il pensante sterrato dell'Etna dove esse esiste ma ti parlo ero fermo al 2011 io ho salato sull'Etna quando ho avuto Contador quindi è una vita che non vado sull'Etna no però c'è una cosa per Marrucci Lore manda un vocale a Chico e chiedi lì com'era l'Etna a Chico vai Chico Chicchi va bene Freddo mi è venuto in mente adesso Freddo il vento contro fa selezione bisogna spingere i rapporti più duri possibili bisogna vedere il vento da che parte espira però ragazzi potrebbe essere anche un vento di taglio un vento a favore vediamo non è detto che sia contro per tutto il tempo la salita se poi avete bisogno di un passaggio all'aeroporto vi diamo il numero di visconti che vi viene a prendere assolutamente no la chi non si fa vedere perché quando si è fatto vedere qualche pezzo di youtube ci hanno demonetizzato il video quindi evitiamo di far vedere roba su youtube che comunque in teoria la rai aerosport o chi che sia hanno i diritti di quella roba lì quindi va bene i canali che mostrano le tappe vecchie del giro ok però rischeremo poi di evitiamo su twitch lo potremmo far vedere quello si poi poi vediamo un po' martedì vince gioao dice daniele ma che vince al meglio dice topox chi vince allora spariamo dei nomi così in anteprima chi può vincere martedì sull'etna dal mio punto di vista se arriva per me arriva la fuga perché per me arriva la fuga e secondo me uno potrebbe essere una sorpresa qualcuno tipo anche lo stesso fortunato test fashion qualcuno che ha già due o passa minuti in classifica tanto van der pool perderà la maglia sicuro e nessuno la vuol prendere quindi yates non la prende yates secondo me non la vuole prendere anche perché non c'ha la squadra per tenerela carapazzo forse la potrebbe prendere ma non gli interessa troppo presto troppo presto quindi secondo me ma anche perché fede cioè carapazzo se la dovesse prendere carapazzo per com'è la classifica dovrebbe fare un'azione o provare a vincere la tappa lui in qualche maniera e non è che yates arriva lì e gli fa prendere la maglia gli dice vabbè prendila te lo seguirà quindi se arrivano insieme è avanti yates allora secondo me arriva la fuga e purtroppo vedi Nibali secondo me cosa ha sbagliato ecco se dobbiamo trovare un errore Nibali se faceva una crono se la prima tappa prendeva 30-40 secondi come fortunato e faceva una crono easy e andava già 2-3 minuti secondo me se entrava in fuga rischiava di vincere la tappa e prendersi la maglia dal mio punto di vista invece così vicino in classifica non lo faranno andare in fuga rimarrà lì nel gruppo no ma ne ha nessuno se scatta non li fanno io ti do una chiave di lettura diversa visto che Nibali non è favorito nel Giro d'Italia non è assolutamente favorito secondo me avere un Nibali che prende la maglia sto fantasticando chiaramente prende la maglia sull'Etna e la tiene per i 6 o 7 giorni dopo va a levare l'onere di lavoro a tante squadre potrebbe essere anche un riconoscimento della carriera è un'altra lettura ma è anche levarsi l'onere di tirare per le altre squadre guarda che è un grandissimo vantaggio tutti sogniamo un po' un Nibali in maglia rosa magari addirittura anche nella sua terra nativa la Sicilia quindi sarebbe bello però io la vedo dura perché sono tutti lì avvicinati quindi Nibali non andrà in fuga non può attaccare da lontano quindi l'unica speranza che ha è staccare di 30-40 secondi i vari Yates Carapaz 20 quant'è 20-25 quant'è il distacco di Nibali e sinceramente su quella salita lì non lo so se riesce a dare 30 secondi da Van Der Poel e 19 da Yates 20 secondi da Yates vuol dire partire partire Yates e Carapaz e nessuno li va dietro però come si muove un altro di Nibali dico boh uno a caso Kelderman Yates li deve andare dietro se dietro Nibali ci va Indley Yates li deve andare dietro Carapaz li deve andare dietro no più che altro è che sta mettersi la magliettina però no una cosa ragazzi a parte quello se va via una fuga la corsa chi la tiene la Alpecin non gliene frega niente con Van Der Poel chi la tiene no arriva la fuga sull'Etna arriva la fuga quindi quello è il problema quindi quello è il problema secondo me è quello lì problema in virgolette comunque la chiave di lettura può essere quella e quindi fa comodo che una stana prenda la maglia la maglia rosa eh ma ma ascoltami si però se uno se uno a due minuti due minuti e mezzo io ti dico il nome di Fortunato riesce a entrare nella fuga anche a quattro minuti siccome l'Alpici sa che già perde la maglia non terrà la corsa la fuga può avere veramente a metà tappa può avere già sette otto minuti di vantaggio e le altre squadre se non ci sono nessun uomo pecoloso fortunato è una lettura è una lettura logica c'è Tesfacion te ne dico una a caso Tesfacion che ha già mi pare più di cinque minuti se va in fuga e in salita regge perché comunque regge in salita rischia di prendere la maglia rosa una cazza dico una roba a caso perché l'Alpici non tirerà per riprendere la fuga ma Neppu l'ha già persa la maglia sull'Etna l'Alpici tira i primi 50 km a 25 km l'orario Tesfacion è a 3 minuti e 12 da Van Der Beek il Lucchese e Tesfacion il Lucchese e Tesfacion 3 e 12 è pochino non lo so se lo faranno andare 3 e 12 un po' poco un po' pochino però c'è Caicedo 2 e 11 potrebbe essere un di Caicedo mi piace l'Etna è infatti il Caicedo dell'Inter però no il Panterone Sosa a 1 e 34 Ruben Sosa della Cruz della Cruz dov'è in classifica allora ecco lui è un nome spendibile sto risalendo se no c'è anche Rick Zabel che è andato forte in salita Buda sì è già fuori potrebbe essere della Cruz è 67esimo 1 e 50 subito davanti a Kemna che ha 1 e 55 Kemna è un altro che l'ho visto pedalare bene anche Don visto che ha già immagazzinato un bel po' di distacco visto che ha fatto la Crono praticamente a passeggio allora andiamo al verde 0 e 50 52 secondi va al verde ah vabbè allora dai pensavo era andato peggio a Crono è rimasto abbastanza lì andiamo a vedere chi ha più di 2 minuti perché questa gente dal 2 minuti in giù secondo me è gente interessante per la fuga fa anche 2 minuti e mezzo Fede anche 2 minuti e mezzo Fortunato no Don Borowski no Don Borowski no per favore dai cioè Don Borowski Caicedo va a vedere Don Borowski vince Maglia Rosa sicura al 100% mamma mia che depressione allora Don Borowski Fortunato Caicedo Matthew Holmes Diego Rosa Camargo dell'IF ma vabbè Calmejan Calmejan Gaburo Calmejan no per favore è l'idolo del Berta Chris Hamilton non credo perché comunque starà dietro dietro Yates un uomini interessanti Rui Costa potrebbe essere uno da fuga ma vediamo Gavazzi però non credo che regga l'Etna Ravanelli anche lui Cataldo attenzione della Trek perché la Trek è una squadra all'attacco sono tutti attaccanti quindi attenzione a Cataldo potrebbe essere un uomo interessante sono finiti i giorni migliori i giorni di straforma di Cataldo ha un altro ruolo Ties Fashion 3 minuti e 12 Ponomar poi altri uomini interessanti Cudus 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 un altro lucchese il lucchese Cudus ecco questo forse è un nome interessante per la fuga Sepulveda però però come ci può andare Sepulveda ci può andare anche Sepeda esatto Thomas De Gento potrebbe Thomas De Gento potrebbe essere perché ha già 4 minuti e 50 visto che il re dello Stelvio Monique Silvain Monique Silvain Monique un uomo a fuga anche lui no vabbè ma c'è questo qua che è ubriaco ma ti devi levare dalle palle cioè se lo sai guidare vattene perché hanno apprezzato di setta a me perché ho detto Silvain Monique altri nomi interessanti Pedrero Pedrero dov'è? no è già andato Davide Bais sì però ragazzi Davide Bais può vivere in fuga Davide Bais Juli Hansen uomo fuga però vabbè non vedo altri nomi Samuele Rivi proverà ma chiaramente De Marchi però De Marchi non sembra eccolo qui penultimo in classifica e che non sia un segnale che veramente però era caduto bisogna capire come sta è caduto con Trattnick però ragazzi se c'è il freddo e la pioggia essendo un Teletubbies ah no Trattnick Trattnick si è ritratto si è ritirato Trattnick io l'ho subito ammazzato sì oggi l'ho ammazzato subito e permette lui l'ho lasciato fuori Ben Telet scusami l'avevi comprato all'asta di riparazione se non sbaglio nella riparazione Trattnick fatto un ottimo acquisto direi vabbè è andata male sulla carta non era male era libero così come corridore Edward Towns per Consoni speriamo bene ma Consoni perché puntarello lo fa dai però oggi i miei due velocisti Pozzovivo sì ma quei migliori quei migliori sì Pozzovivo farà la sua garetta nel gruppo di testa e se la gestirà però Pozzovivo è un bel è un bel nome romantico uno di quei nomi che ti riconcilia così come Nibali però Pozzovivo c'è anche la tappa di potenza se proprio vogliamo essere romantici tra l'altro ma poi ti ripeto a parte romanticismo Pozzovivo va in fuga subito no 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 parlavano eh cioè secondo me vanno in fuga e la corsa non la tiene nessuno quello è il vero problema perché alla fine ancora nessuno vuole scoprire le proprie carte dovrebbero arrivare tutti insieme i migliori poi io ho un nome bisogna vedere se dico sto nome non fare è il tuo tanto ormai lo dico Miguel Angel Lopez ma un nome per il cosa per il fallimento una volta si è schiantato no per la tappa per la tappa se arrivano i migliori Tony Manero Mercatone Blink vanno a cercare Mercatone Blink la trovi la mia formazione in campionato quella è la mia diciamo che ho optato per alcune scelte drastiche anche perché dovevo fare un po' di change saving e quindi non ho riacquistato Van Der Poel che ad oggi purtroppo mi penalizza ho perso da inizio del giro ho perso sono solo due tap per ora si vediamo cosa stai facendo la Ferrari dicano Bardet non lo so anche ragazzi aggiornateci in chat su cosa fa la Ferrari aggiornateci in chat su cosa fa la Ferrari perché non lo so aspetta mi hanno taggato su Telegram non so cosa allora all the stage ah addirittura tira lungo guarda l'ho visto ora addirittura è stato il più vecchio a vincere uno stage a giro d'Italia ma Coramello mi ha taggato con 37 anni e 313 giorni siamo scordati Macugnaga dove a Macugnaga o in nel 2015 è Macugnaga mi sembra no 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 era in era nel Sannio qualcosa del genere perché mi ricordo che era vicino al paese natale di Padre Pio e io dovevo fare gli invi con l'FTP e prendeva dove c'era la statua di Padre Pio vedi vedi prendeva il cellulare secondo me è casuale questa cosa no infatti mi ha dato del blasfemo safety car vince l'Eclerc su Vestap o sta vincendo non ho capito primo Vestap e secondo Vestap però qui invece lui ha detto no io non sto capendo niente ma chi è che c'è davanti meno io non lo so non lo so non sto guardando Emil Herzog sì lui ma sempre uno del primo Vestap e il secondo l'Eclerc ha un secondo e quattro però sono vicinissimi se sono col safety car con la safety car va bene allora Valverde no Valverde volevo dire una cosa ma no è troppo vicino un classifica secondo me no andrà via la fuga e se tutto va bene nella fuga ci sarà la nuova maglia rosa io dico questo perché è troppo presto la quarta tappa per i 4-5 big per prendere la maglia nessuno la vuole Vanderpool la perde di sicuro la Alpe ci gestirà la gara un po' così alla buona non gli interessa rimanere incollati alla fuga la lasciano andare per nulla e nella fuga chiaramente ragazzi ci sarà qualcuno che ha 2-3 minuti qualcuno 5-6 ma qualcuno 2-3 ce l'avrà e secondo me la fuga arriva con un paio di minuti di vantaggio anche un qualcosina di più e lì ci sarà la nuova maglia rosa e sarà un nome di quelli che abbiamo detto noi ora un po' inatteso poi questa è la versione 1 la versione 2 è quella che un uomo di classifica ma non dei top a 6-7 km all'arrivo prova un attacco guadagna quei 20-30 secondi che gli permettono di prendere la maglia sui vali Yates Carapazio se non va via la fuga per un motivo X cioè sicuramente non perché Vanderpool credo che la perda di sicuro perché 22 km di salita anche se non è impossibile cioè è dura per lui poi carità mai dire mai ma perché deve immolarsi per tenere una maglia è vero è vero che se tiene la maglia poi fino al blockhouse la può tenere tranquillamente la può tenere però se risparmio energie sull'Etna magari nelle tappe di Napoli in un'altra tappa si gioca la vittoria dipende dal ritmo che fanno i migliori secondo me la Ineos prenderà lungo la salita finale un po' le redini del gruppo anche perché è l'unica squadra forse che lo può fare ha gli uomini per farlo dopodiché secondo me se la giocheranno i migliori in volata la fuga in una volatina la fuga ci può stare però sicuramente sì è chiaro che non so quanto possa prendere di fuga e bidone ne abbiamo viste già abbastanza questa poteva essere un'opzione ma solo a una condizione che Van Aert fosse a giro d'Italia non credo non credo se fossimo stati al tour ti dico rispetto a quello che abbiamo visto nel 2021 poteva anche starci la fuga della maglia gialla a suo tempo e rosa a sto giro non credo onestamente non credo che vada a sprecare energie così Van Der Poel anche perché se va in fuga rischia anche di non vincere la tappa a spiecare energie inutili per cosa non è una tappa per lui questa qua Van Der Poel in fuga sarebbe bello però vuole vincere altre tappe non gli interessa la maglia è questo la verità è questa la verità è questa da quello che si è sentito dire comunque lui ha detto che vuole provare a finire il giro però se la sua forma condizione malanni cazzi e mazzi non succede niente però vuol dire tutto e vuol dire niente cioè no vabbè però allora 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 io interpretiamo i segnali e andiamo a logica allora la logica ci dice che lui sul sull'Etna non ha una chance di tenere la maglia rosa comunque ne ha pochissime per caratteristiche quello che abbiamo visto però è che ha dimostrato un grande attaccamento alla maglia rosa e ha dato una grande importanza a questo traguardo perché sia la prima tappa che ha vinto sia la cronometro sia nella prima che nella cronometro è arrivato in fondo penso morto stremato con la bava alla bocca quindi vuol dire che questo obiettivo lui ce l'aveva ben chiaro in testa lo voleva ottenere e l'ha ottenuto quindi ora probabilmente non è che lo getterà ai 4-20 sull'Etna però sull'Etna la perderà perché non è per lui la tappa giusta per esprimersi perché rischierebbe anche magari di rovinare il proseguimento del Giro d'Italia però per le prime tappe che abbiamo visto abbiamo visto un Van Der Poel che mi sembrava ci tenesse abbastanza a questa corsa qui spero eh spero di non sbagliarmi sì senz'altro quindi magari ci farà divertire per altre tappe però se lui provasse a tenere la maglia sull'Etna probabilmente si rovinerebbe un po' anche la gamba cioè a costo di tenere la maglia la maglia rosa magari fa l'impresa ce la fa poi però arriva alla quarta tappa e alla quinta tappa è spompato quindi non lo so avrà fatto non gli conviene sì esatto non gli conviene spomparsi già per provare a tutti i costi a tenere la maglia la ciclamino è probabile però io ho sentito un'intervista sia di Cavendish che Ghirmai sono tutte e due abbezzi alla ciclamino Cavendish perché ha detto che tanto il turno lo fa e quindi il suo obiettivo è finire il giro e portare a casa la ciclamino quindi questo è un bel per chi l'ha schierato con la magliettina della formazione ad oggi ha fatto bene chiaramente e Ghirmai ha detto che potrebbe essere un suo obiettivo se riuscisse a finire il giro quindi per Demar Nizzolo e Gaviria insomma ci sono due avversari in più che forse erano un po' underdog all'inizio anche se Cavendish chiaramente underdog insomma è un po' una cavolata però si pensava a tutti che Cavendish venisse a giro un po' alla E1 no? vengo faccio due o tre tappe due o tre volate e poi me ne vengo a casa invece 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 no quindi questo è qua Cavendish non è E1 diciamo anche con grande stima nei confronti di Cavendish poi ora magari storicamente direi proprio di no anzi eh insomma anzi e comunque da questi primi tre giorni abbiamo fatto una bella sintesi abbiamo detto anche top e flop ad oggi delle prime tre tappe chiaramente può agire lungo 21 giorni quindi insomma per redigere i top flop ci sarà tempo e argomenti per ora ci sono le pagelle di Piazzano però per ora vi accontentate le pagelle di Piazzano lo finisce il giro di scadirincere che arriva quando si nomina le pagelle di Piazzano arriva non so perché è giusto quando è pure il tempo per la chiusura Marciano più di una era dura mi conviene dare tutto qua intanto e poi vedere Simone dice che comunque finisce il giro e rischia di vincere 3-4 tappe in maniera easy ci sta purtroppo di Van Der Poel comunque che probabilmente la maglia la perderà sull'etra ma anche a rigor di logica non gli conviene nemmeno provare a tenerla facendo un'impresa perché si arriverebbe spompato si rovinerebbe magari poi anche il proseguimento di giro quindi le altre tappe in cui potrebbe far bene per cosa poi però dall'altra parte abbiamo visto un Van Der Poel in queste prime tappe molto attaccato a questa corsa e all'obiettivo maglia rosa nella prima tappa è arrivato è un professionista stiamo parlando di un grande professionista cioè ragazzi è uno che un grande campione dobbiamo dire si 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 è uno che onora la nostra grande la corsa l'hanno ingaggiato l'hanno voluto a tutti i costi e lui va a onorare la corsa cioè io te lo dico lo ripeto continuo a dirlo a Napoli ci divertiremo perché lui vuole una bella foto a Napoli così cioè ti riempiono sono quelle cose che ti riempiono la carriera ma si no poi oggettivamente ragazzi Van Der Poel a parte che ha fatto in certa vita classica in questi in questi due anni ma poi l'anno scorso ha preso la maglia gialla che era il grande obiettivo per dedicarla al nonno e quest'anno ha vestito la maglia rosa cioè non è cosa cosa da poco chiaramente lui è un corridore che non può vincere una corsa a tappe per caratteristiche quindi chiaramente fa altro fa quel che può fare in questo altro in questo altro insomma ci fa ci fa divertire e lo pittura con delle belle con delle belle io comunque in una fuga in una tappa non so se questa settimana o la prossima ce lo vedo cioè in una fuga da lontano che parte insieme ad altri per giocarsi una vittoria magari la tappa di potenza infatti lui secondo me doma all'altro sull'Etna prende tranquillamente cinque minuti per poter poi andare in fuga in una di queste tappe due parole sul Pitcock Show di oggi sì ha vinto nel Montanbike 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 questo dimostra dimostra che la strada è un altro sport rispetto cioè che sono due sport simili ma diversi al solito tempo perché il Pitcock visto nella campagna delle Ardenne nel nord è stato molto deludente rispetto alle aspettative poi laggiù chiaro va nel suo terreno e vince il Campionolistico ricordiamo oggi sì oggi andando un po' su no ho riscaricato le tre foto perché chiaramente avevo fatto un errore diciamo tecnico quindi cioè tecnico più che tecnico avevo fatto un errore di veloce di ortografia quindi l'ho riscaricato vediamo se ora tornano perché ci chiedevano della lega esperienza come siete beh la mercatone blink lo potete vedere nella lega esperienza io sono 1796esimo su 2008 quindi poco dopo la metà questa è la formazione vincente l'avevamo già fatta vedere prima poi la lega di scoveri ecco la la formazione di ciclo Tevere Sabina è questa la formazione corretta con Ghirmai che praticamente l'ha messo da tutte le parti Maglia Rosa Maglia Blu Magica Vino Maglia Bianca e io sono qui sono messo malissimo 2343esimo è lunga è lunga ma io praticamente la lega esperienza ho schierato non ho schierato alla prima tappa me lo sono dimenticato è vero che vabbè la prima tappa comunque non avevo preso Van Der Poel avevo Ghirmai avevo Ghirmai mi sono giocato i punti di Ghirmai in quella tappa quindi probabilmente non vincerò la lega esperienza e in campionato nel giro d'Italia sono 2132esimo però il campionato poi in classifica sono 170 e qualcosa e queste praticamente le vittorie di queste formazioni sono tutte improntate sulle volate abbiamo visto che sono tutte formazioni piene di velocisti c'è gente anche che gioca così c'è gente che aspira anche alle vittorie di tappa è bello il gioco ognuno gioca come gli pare ecco fondamentalmente è questo no volevo andare a vedere giusto in chiusura la gara triste non so chi ha vinto nemmeno il GP di Bob Jungels che penso sia quella cosa cioè io non so potevano fare anche una gara non lo so ma lo so facciamo una gara intitolata a un gregario è uguale è la solita importanza ha vinto ha vinto Verstappen ha vinto Verstappen no sulle Clerc Sainz Perez Russell Hamilton Bottas Alonso con Albon via via svegliato eccoci qua eh vabbè ragazzi Verstappen ci sta campione del mondo è più forte che c'è in assoluto quindi però però dai la Ferrari da piano piano insomma sta rientrando non sono un grande esperto Formula 1 però la guardavo ai tempi di io ti favo all'esì quando non vincevo molto pre-storia praticamente io ti favo l'esì e berger io ti favo all'esì e ricordo l'unica sua vittoria in Canada la ricordo come se fosse oggi momento letto è un momento letto ah sì sì è un momento letto ce lo fai vedere da un po' che non lo vediamo vai sì ma c'è il Grand Prix adesso c'è come si chiama un secondo ecco è un momento più bello mamma mia mamma mia ecco momento letto no ah è finito secondo se fai il chilometro mamma che sostanzialmente era tante consigliere era tipo un anno che mancava più o meno ci mancava ci mancava le serie del Giro d'Italia torna anche il momento letto qualcuno scrive il miglior momento della live eh allora mettete mi piace è vero vero mettete mi piace ragazzi abbiamo superato i 200 però a quanto vedo benissimo Samu non guardavo il ciclismo non ho iniziato a guardare ho sempre detto guardavo le classiche del nord perché c'era Michele Bartoli che la mia nonna lo inneggiava in casa e quindi con Michele guardavo le classiche però il primo giro che ho visto è quello di Gotti Tonkov del 97 poi dopo mi sono riguardato tutte poi da lì in poi ho iniziato a guardare non perdevo più una gara dal Giro d'Italia del 97 in poi l'ho viste tutte però prima quella famosa gita a Pontremoli dove era? a Pontremoli? no quella gita famosa il giro di Pantani squalificata però la tappa era quella del Fauniera che era un gita a Pontremoli la discesa di Savoldelli appartato nella viettina con quello che aveva un velo peloso qui sul braccio è mento orribile e l'ho raccontato anche l'anno scorso è nato tutto così ragazzi no io la Merano Aprica 94 l'ho vista io penso me l'ha vista 3-4 volte dall'inizio alla fine la trovate su Youtube tutta io quell'anno lì vedevo il giro a pezzi e vi dico allora ero piccolo molto piccolo e mi ricordo su Italia Rete 4 Italia 1 mi ricordo facevamo vedere dei cartoni animati e io volevo tornare a casa d'estate o comunque a giugno o maggio prima per vedere questi cartoni animati però in realtà c'era il giro di Italia e mi ricordo che non facevamo vedere questi cartoni animati perché c'era il giro e io lì mi tiravo le scatole quindi non non percepivo ancora sarà contento Dezan eh no mi ricordo che c'era allora quello me lo ricordo che c'era Dezan poi chiaramente dopo dopo l'ho recuperato tutto recuperato tutte ragazzi ma Dezan Dezan non può venire in live Dezan a parlare di ciclismo a parlare di ciclismo non sa niente ciclismo dice no 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 Davide senti Dezan 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 hai imparato a usare il telefono grazie a lei sì ti ricordo una volta abbiamo fatto una diretta su Instagram e abbiamo abbiamo rinunciato non si sentiva non c'era l'audio no è vero abbiamo fatto tre prove non è tecnologico la tappa del 94 comunque vai riguardatela tutta integrale magari poi l'ho sempre detto una sera magari a fine giro non so si prende solo su Twitch che si può fare si riguarda tutta la tappa e si commenta così è una tappa spettacolare l'ho rivista tutta e io allora si trova il 50% delle tappe si trovano su YouTube del giro del 94 io le ho viste tutte e era un grande non era un giro durissimo quella tappa lì era dura come è stata replicata anche più volte negli anni successivi non era un giro durissimo però ragazzi c'era delle interpreti c'era Berzin che spingeva il rapporto più agile era non lo so un 56 boom boom Berzin è una cosa allucinante e il bello era che c'era Giacomo Crozza sulla moto che diceva no Berzin sta andando agile perché per quei tempi lì andare con quei rapporti duri era comunque andare agile tipo Bugno era uno dei quelli che andava su durissimo però loro dicevano sta andando agile perché per quei tempi lì quei rapporti lì erano agili in realtà ora perché il Mortirolo negli anni 90 faceva un casino a livello di classifica perché il rapporto più agile era veramente un rapporto che ora spingono un pianura ora con tutti i rapportini è difficile far selezione anche sul Mortirolo sullo Zoncolander al massimo dai un minuto tra il primo e il decimo sullo Zoncolander non c'è tantissimo distacco prima con quei rapportoni duri Pantani aveva una forza allucinante con quel solito rapporto lì sembrava chi è che me lo raccontò aspetta non mi ricordo chi è che mi disse che Pantani alla televisione in quella tappa lì sembrava che andava agile sembrava in realtà spingeva un rapporto impossibile però te lo vedevi che mulinava le gambe ma perché spingeva per lui era agile per lui era agile ma in realtà aveva un rapporto allucinante quella tappa lì è storica ragazzi guardatela sono tre ore di diretta ma è tanta roba insomma G94 durissimo no perché Campitello Matese mi pare di no fu il primo arrivo in salita era tipo alla settima ottava tappa c'era un bordello di cronometro cronometro di follonica e poi c'era la crono del passo del bocco che era un cronometro in salita ma era l'anno di Le Desalpes anche sono arrivate Le Desalpes o era l'anno dopo il 95 era l'anno di Le Desalpes che quella tappa lì Pantani partì in fuga che si chiese anche a Ciappucci in live e partì in fuga e inizio tappa provavamo a fare quella cosa che poi fece anche con Armstrong nel tour del 2000 partì in fuga e inizio tappa e mi pare c'era l'Isoar e l'arrivo su Le Desalpes partì su L'Isoar prima fece L'Isoar da solo poi c'era c'era il compagno di fuga e poi Ciappe González e non non trovarono l'accordo e poi si fece riprende e lì Argentino e fece una grande tappa alla Gavis perché tirò tutto il tempo era la Gavis della Madonna era la Gavis migliore di tutti tirò tutto il tempo Bergin e poi sulla salita finale Le Desalpes non mi ricordo chi vinse forse Zaina non vorrei di una cavolata la vinse Pulnikov Pulnikov ecco uno sì un altro della cosa era della Carrera della Carrera sì Carrera sì Pantane arrivò con Indurain e Bergin successe quasi nulla su Le Desalpes poi vabbè però nel 98 si è ripreso su quella salita sì sì la tappa la tappa Le Desalpes del 98 giù il cappello era l'agnello dove partisse c'era l'agnello quella è una tappa dura perché c'era l'agnello l'Isoard e Le Desalpes se non sbaglio e l'agnello è una bella salita vinse Pulnikov sul cacahitolo soprattutto quando riescono a farla due volte su tre è chiusa cosa? soprattutto quando riescono a farlo l'agnello visto che tre volte su quattro è chiuso comunque si vede che è finito il Gran Premio perché dopo due ore e dieci di diretta si è superato le 300 persone con l'ES ma è finito il Gran Premio e anche il Milan il Milan sì sì era ovvio era scontato ci sta ci sta allora il Fedaia sarebbe bello devo sentire ve lo dico in diretta quando c'è ragazzi mi dite la data del Fedaia 28 maggio vediamo le tappe 28 maggio sabato 28 amore mio sabato 28 maggio se si va sulla marmolaga Fedaia passo passo Fedaia ci vieni si mangia bene vabbè si ritorna si ritorna si ritorna potrebbe succedere potrebbe succedere grande potrebbe succedere non lo so perché il 29 abbiamo la mattina a pranzo dovremmo essere a Firenze alla cantina Antinori il 29 il 29 è l'ultima tappa a Verona ma si due passi dai marmolada Firenze è in si è lì sono a Prica quante seghe quante seghe pensavo che credo si ritorna la ragazza dicendo amore mio sono Lorenzo di Fatta Sai o ieri Marcello si è fatto una figura di merda con valore allucinante cioè lui ha fatto una figura cosa è successo io non ho capito scusate non sono riuscito a rivedere semplice semplice raccontatemi perché voglio sapere vedi che scrive tanto il finale notario vede racconto la prima parte semplicemente ho chiamato in settimana ho chiamato in settimana Adriano per venire ma l'altra volta era venuto quando l'abbiamo chiamato si è detto disponibile guarda ti mando il link per partecipare alla diretta sì sì non potrò stare molto però va bene e quando i ragazzi mi hanno girato il link e glielo ho girato sia via mail poi via sms perché su quel numero che mi ha dato non ha non ha whatsapp quindi magari il numero di lavoro non lo so e silenzio numero finto ti ha dato ma tu sei un malore io c'avevo un numero aspetta aspetta poi che è successo ma il momento bello viene adesso cosa è successo a un certo punto mi ha fatto Lore mandami il numero lo chiamo in diretta oh vedi gli si dice come il maiale di Selvaterra già bene siamo il livello è questo schermo ha chiamato il numero io lo stavo l'ho chiamato in diretta c'era la segreteria telefonica no e allora ha detto vabbè lo richiamo gli lascio un messaggio in segreteria schermo l'ho chiamato e è partito dopo il segnale acustico bip c'è il segnale acustico io sto unziondo zitto poi questo Lorenzo mi guardava la gente scriveva in chat e mi ha fatto ciao sono Lorenzo di Pantasycling e poi ho iniziato a ridere e ho buttato giù e aspetta oggi ora ve lo racconto oggi era domenica di solito i pazienti di domenica non chiamano vedo una chiamata Malori ti ha chiamato ha detto porca puttana infatti c'era lei che ha detto è Malori porca puttana è Malori ho fatto invece non era Malori secondo me non ci chiamerà più e noi non chiameremo più lui probabilmente perché evidentemente no ma è strano ma è strano ma è strano la tua volta l'ha venuto Malori la tua volta l'ha venuto lo chiamo io è piacevole poi è uno bello lo richiamo io Malori lo richiamo lo richiamo io io ce l'ho il numero la tua volta perché ce l'ho detto quando quando ce lo diede quando allora poi ti mando il numero che ho io per confrontarlo per confrontarlo ti mando il numero che ho io questo ce l'ha Whatsapp eh allora ma che numero c'hai oh mi ha detto un numero adesso non te lo dico ma te l'ha dato lui o l'ha trovato sull'elenco telefonico no no me l'ha dato lui chiamami su questo numero non è che tanto un numero sbagliato è finto te l'ha dato che ne so alla prima donazione della serata ragazzi stasera abbiamo fatto una diretta da poveri la mail era quella giù in caso vi aspetto Melador Melador è Melador dove è Melador quale tappa è è dopo il Mortirolo la tappa dopo il Mortirolo è un mercoledì se non sbaglio io potrei andare solo nelle tappe dalla 16 in poi perché fino a che non finisce il campionato che finisce il 22 io sono ma hai già finito il campionato sì vabbè ancora formalmente non è finito stasera mi ha dato una bella botta il Milan oggettivamente senza gufare io non sono fuori dalla contesa ma questa vittoria leo che scrive domani vado a citofonare perché dici che sta vicino a casa di Malori di Malori ma dove sta se mi vuoi dare il numero reale chiamo anche quello vabbè ora è un po' tardi ieri più o meno era questo radio e chissà chi ha chiamato comunque si Melador dice che è molto molto dura ma un pazzo invito a Davide Petrini ma Petrini ci si fa la Lega ci si fa la Lega però fa una diretta Davide Petrini boh non so che non è cioè è uno youtuber vabbè però non è che boh non lo so ci sta vale tutto vale tutto però Lorenzo sta scrivendo sicuramente qualcosa sul gruppo perché vedo che a Malori no scrive a Malori no un video che mi hanno girato su una roba un programma tv non c'entra niente vabbè ragazzi vabbè dai siamo in conclusione e anche oggi due ore abbondanti 45 minuti rispettati siamo rimasti 45 minuti allora domani non ci siamo ma domani uscirà la cosa esce la puntata di Bike Channel che ci sarà in onda alle 20.05 l'abbiamo registrata diciamo col format del salotto quindi saremo qui uguale più o meno con grafica un po' diversa ma non saremo in studio saremo qua per motivi chiaramente logistici e di tempo perché non non riusciamo a registrare come consueto perché chiaramente se no non sarebbe attuale e quindi l'abbiamo fatta registrata così quindi sarà un salotto un po' diverso e manca il letto di Piazzano che però potete godervi qua nel salotto di Fanta Cycling sono brasato e nulla vabbè il Mullah ragazzi non lo so non lo so che fine ha fatto è un po' desaparecido il Mullah ragazzi forse forse sta preparando il maiale psicologicamente per lì in ritiro tipo Rocky col suo allenatore non lo so ma tornerà tornerà anche il Mullah sì esatto è tipo comunque c'è arrivato grazie all'utente che ci ha mandato il numero del credo che non lo so del manager della lotto Sudal credo quindi poi cerchiamo di contattare anche Filippo Gilbert intanto si ritirerà a fine stagione e quindi magari ci proviamo ci proviamo anche con Filippo Gilbert secondo me abbiamo più chance con Gilbert che con Malori però si chiama anche Gilbert all'undici la sera non c'è problemi ragazzi perché Carlos Sainz è entrato subito in diretta con uno appena finito il Gran Premio e ha scritto che è arrivato terzo tre è arrivato terzo sì sì è arrivato terzo allora grazie se Carlos è appena finito il Gran Premio ragazzi da rispettare ragazzi appena ha fatto la spruzzata con lo champagne sul podio è sceso speriamo che si colleghi a Alcaraz Alcaraz a questo punto speriamo una sera che Alcaraz Alcaraz il mullà è con Malori potrebbe essere ragazzi mullà free ragazzi non è mullà free è tre giorni che non risponde al telefono il mullà è così bene ma non benissimo bene ma non benissimo magari poi questa settimana è tutte le sere in diretta è così ragazzi non lo so chi è? eh vabbè ma bene comunque no ma noi non lo richiamiamo ragazzi promesso no no un mullà sta recuperando l'Anda dal lago di Balato la caduta è sfuggita alla ricina eh scherzano Marcello una live con Luca Paolini non so perché non lo so perché fa parte di quel ciclismo che Marcello ha seguito molto di più bello questo ultimo qui è comunque ultimo commento lui chiamiamo proviamo a chiamarlo UPH Euseb eccolo è l'Ecletico dalla Bulgaria di Evenepul certo Bulgaria vabbè Trialongo è stato simpaticissimo diciamo ha sbagliato il nome di Van Der Poel con Evenepul e il nome dell'Ungheria con la Bulgaria roba che vede dovuto uscire dalla live dico solo questo questi due hanno riso e ci sono rimasto io come un coglione fino a lungo sapevo cosa chiedergli ragazzi ecco ho tutti i numeri di questi ho tutti i numeri di questi ho tutti i numeri di questi qua Berzin Berzin assolutamente però Marcello io propongo una live con Basso e Simoni e riveliamo esattamente quanto era la città io penso che quando avremo Basso perché ce l'avremo ce l'avremo io mi ammasso la domanda gliela farai Fede sono sicuro che gliela farai va bene non è un problema la faccio io sicuramente gli chiederò qual è il rivale che gli stava più sulle palle qual è il rivale che gli stava più sulle palle gli darò due tre nomi che penso siano tra cui si vuole quello io dico in cui scegliere tra questi qua quindi te gliene dovrai prendere altri due che gli stavano ancora più sulle palle perché lui ti risponda quello capito quello che vuoi te Birillo Birillo è morto Birillo è capito Moreno Moser in live vabbè Moreno Moser sì la facciamo la facciamo ti do anche il numero di Moreno vabbè ma vabbè Moreno si trova tramite Discovery non c'è problema Moreno sì vabbè quindi è buio è Mughini già si dice parolacce noi si 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 percula gli ospiti ci manca anche Sgarbi ci abbiamo lavorato con Mughini Marcello Sgarbi Mughini è vero Saga ci abbiamo lavorato con Mughini ci abbiamo lavorato da me e Nino Larocca Morgan sta degenerando io l'ho capito fantastico Domus ah voglio aggiornare sulla Domus per Lopez poi non abbiamo parlato per niente allora in chiusura Domus per Lopez Domus Domus Super Lopez Domus Super allora in effetti abbiamo fatto prendere follower perché è a 1800 li prende la Super Lopez e non li prendiamo noi sì pensa te allora è Mentis ci è andato Mentis è lui questo è Mentis questo è Mentis chi è questo è uno è uno è uno della Stana ma questo è un Mentis chi è Teada no è Teada è Teada è Teada è Teada ma il nostro qualsero campione e starà per la zona Domus Super Lopez attento poi spara un par di rodadas chi è me coglione capito fanno quindi praticamente sta pagando Teada per sponsorizzare la Domus Super Lopez sta andando bene mi sembra teada non tornerà più in Europa a correre la notizia è questa ma il giro è al giro ma sta facendo il giro Teada è il suo fratello probabilmente il vero Teada è lì no è lui vabbè ma è un posto vecchio questo poi lì c'è la vasca guarda come è bello non è un posto vecchio ragazzi è di una settimana fa di quanto è è di una settimana fa come poteva essere l'avranno registrato prima dai ma l'avranno registrato prima dai a me sparisca Teada quando prenderemo quando sparirà l'ottimo Iacuzzi vista agli e cinghiali grande qualità grande qualità e cinghiali colombiani però si cinghiali colombiani allora c'è anche l'insegna ragazzi guarda lì che spettacolo sembra un autogrill vediamo le storie giusto le storie ah addirittura si pubblicizza vedi cioè è Michelangelo che tagga quello si 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 la domo per poi esatto e poi ripostare è furbissimo ragazzi ragazzi scusate perché non prendiamo Lopez come social media manager di fantasy per Instagram magari le schiamo meno shadow ban ecco su questo ci possiamo lavorare l'ore ma è peconti c'è possibilità di portarlo ma non è già venuto però è però il Rai secondo me credo che fa la trasmissione del mattino il Rai si 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 fa la trasmissione con l'anno scorso l'anno scorso no invece era fermo quindi no quest'anno fa la trasmissione con Meccarozzi ma scusate ma Gigi Sgarboz che fine ha fatto perché l'hanno seccato ma lei si porta in live si porta Gigi Sgarboz io non ho contatti però di Gigione neanche io Gigi Sgarbozzi lì si scrive su Facebook Instagram c'era qualche social perché sa usarlo MySpace sulla lavagnetta sulla lavagnetta secondo me avrà Jumpy non so se ve lo ricordate si si c'è un conosco la gente che lavorava Jumpy Sgarbozzi live con Caleb Eben Sgarbozzi percorato tutto il tempo l'anno scorso l'anteprima gira altro che Bulgaria Sgarbozzi no vabbè però Sgarbozzi sarebbe spettacolare lo so bisogna trovare bisogna trovare il contatto di Sgarbozzi ragazzi se avete qualche contatto di Sgarbozzi giratcelo sai chi ce l'ha sai chi ce l'ha secondo me Silvio Martinello chiamiamo Martinello chiamiamo Martinello invece di invitare Martinello scusa c'è lui Sgarbozzi attenzione Auron Besce dov'è sempre il Rai oppure oppure no è stato seccato anche lui non è più direttore non so se è rimasto a disposizione della nuova direttrice però potremmo sentire anche Burbarelli è il telecronista a me a me come ho vissuto io il ciclismo Burbarelli è il telecronista ragazzi salutiamo dai buonanotte è il momento è il momento stiamo degenerando stiamo fino a che si parlava di Domo Super Lopez va bene che si deve dire più basta basta ci si riviede martedì e domani invece nulla domani vai in cellula alle 20.05 sì sì appunto ciao a tutti salutiamo tutti con la mano salutiamo tutti con la mano